Allora iniziamo l'incontro, quindi buonasera a tutti e grazie per essere qui. Allora inizio con la presentazione dei tavoli così che poi alla fine sapete bene come potervi muovere. Vi presento anche le associazioni che sono oggi qui presenti. Abbiamo il tavolo dell'accoglienza dove potete, e ho visto che avete lasciato i vostri dati, chi non è riuscito a farlo può farlo però tramite la mail dell'Associazione di Roma che oggi ha organizzato l'evento che è Arca del Sole. Se non siete riusciti a lasciare i vostri dati fatelo anche ora se volete, nome e cognome, mail e telefono e noi vi ricontatteremo per mettervi a conoscenza dei prossimi incontri che faremo sempre su Roma. Poi subito dopo avevate l'associazione Ollus che oggi è qui presente, che è Funima International. Trovate altri due loghi sempre creati dall'associazione Ollus No Profit dove noi vi offriamo a offerta libera dei prodotti che vengono dalle terre alcune italiane del sud Italia in Sicilia e il caffè che viene dal Guatemala. L'associazione Ollus, la maggior parte di voi, chi mi conosce, mi conosce perché sono il presidente di questa associazione e in altre occasioni insieme a Pier Giorgio ho presentato questa realtà. Oggi vi propongo queste due novità dell'associazione che sono due progetti. L'associazione, come sapete, realizza progetti di solidarietà e umanitari nel mondo. Noi lavoriamo in America Latina e in Italia. Se oggi andate nei nostri social vedrete una campagna di raccolta fondi per realizzare un progetto d'acqua, la ristrutturazione di un pozzo in Argentina a favore delle comunità indigene, un luogo dove io sono stato e vado ancora e vivo per sei mesi l'anno circa, dove abbiamo una struttura con delle persone che lavorano nell'accompagnamento delle comunità indigene e quindi nella crescita e nello sviluppo di queste comunità promuovendo anche la cultura del lavoro. Partiamo dall'acqua perché l'acqua è la risorsa primaria, perché c'è questo bene che scarseggia e uccide ogni anno moltissime persone ancora per malnutrizione. La mortalità infantile in queste zone è ancora molto alta e noi insieme a organizzazioni locali combattiamo realizzando infrastrutture che appunto portano acqua nelle comunità e nei villaggi delle comunità indigene. Siamo nella foresta del Ciaco e a Salta, nelle Ande e quindi siamo molto attivi in quel senso. Se volete nelle nostre pagine funiminternational.org o Facebook o Instagram trovate le raccolte fondi e anche la documentazione che noi vi offriamo per dimostrarvi con trasparenza le opere che realizziamo grazie alle vostre donazioni. Qui c'è Nuova Esperanza, è un caffè che viene realizzato da cooperative di lavoro in Guatemala, contadini, a cui noi aiutiamo comprando il caffè che loro producono e rivendendolo in Italia. Funima lo fa creando questa marca che è Nuova Esperanza. L'ultimo progetto è Progetto Mediterraneo, sempre nelle terre italiane, in questo caso in Sicilia, l'associazione a base a Palermo, io vivo a Palermo e opero nei quartieri di Ballarò, del Capo, in alcune zone più difficili della città e stiamo aiutando delle cooperative agricole di lavoro che non portano sfruttamento, sapete che si sfrutta oltre la terra però le persone anche in Italia, non solamente in America Latina, noi sosteniamo queste cooperative, compriamo loro i prodotti e li rivendiamo. L'associazione non ha uno profit, quindi voi sapete che acquistando questi prodotti tutto l'utile va a beneficio di progetti che l'associazione poi realizza nel territorio dove questi prodotti vengono realizzati da queste cooperative. Approfondite in questi canali perché lì trovate tutte quante le informazioni, io mi occupo di questo principalmente e quotidianamente, è il mio lavoro quello di creare rete, realizzare progetti, conoscere le culture locali, studiare progetti che cambiano la vita delle persone, portano un miglioramento alla nostra terra e alle persone che ci abitano. Quindi oggi ho una duplice veste, mi tolgo i panni del presidente dell'associazione Funima e poi mi metto quelli invece dell'associazione culturale che oggi ha invitato qui Pier Giorgio Caria. Pier Giorgio ha un'associazione che è Nuova Cielo, Nuova Terra, anche lì c'è un tavolo con tutta la documentazione che lui oggi vi offre, quindi all'uscita potete andare anche nel tavolo dell'associazione di Pier e lì c'è tutto quanto il suo materiale. Però ora, come vi dicevo, perché sto presentando questo evento? Perché insieme a tanti amici qui di Roma abbiamo creato, io sono il presidente anche di questa nuova associazione culturale Arca del Sole, che vi presento brevemente, così non prendo molto tempo perché abbiamo già iniziato in ritardo, mission di questa associazione. I dati che voi state lasciando li lasciate proprio per entrare a far parte se volete o comunque a conoscenza dell'associazione e poi per essere informati sui prossimi eventi che stiamo organizzando, sempre su queste tematiche. Allora, da sempre l'uomo si interroga sulla sua esistenza, ponendosi queste tre domande fondamentali. Da dove veniamo? Perché siamo qui? Qual è la nostra missione? L'associazione Arca del Sole nasce quindi con l'obiettivo di cercare queste risposte. E con tutta l'umiltà noi non pretendiamo di essere divulgatori di verità assolute, ma di condividere insieme a voi questo cammino di ricerca e di conoscenza. Con il fine ultimo, se vogliamo, di raggiungere quello status di uomo nuovo di cui il filosofo Giordano Bruno tanto parlava. Sentirci in cammino quindi è proprio ciò che noi vogliamo perché siamo consapevoli che la verità è qualcosa che va ricercata e per farlo dobbiamo annullare ogni atteggiamento di pigrizia nei confronti della vita. Per tale ragione crediamo che il punto di partenza sia essere consapevoli di non sapere. Quindi restiamo con i piedi per terra ma con lo sguardo rivolto sempre verso il cielo e sempre verso il sole, entità a cui noi ci rivolgiamo per dialogare e cercare le risposte ai nostri dubbi. Con questa immagine quindi voglio dare inizio a questo incontro e quindi do il benvenuto a Pier Giorgio Caria, ricercatore e documentarista, amico e fratello. Grazie. Siamo vestiti uguali, non ci siamo consigliati eh? Siccome siamo fratelli gemelli, anche se io potrei essere il padre, però l'intuizione. Allora tanto grazie siete numerosissimi, anche oggi ho perso. Io ho una polemica sfida con il mio tecnico Thomas, lui dice sempre verrà un botto di gente, io dico ma andranno tutti in spiaggia, ma piove, vabbè ma è bello il mare quando piove. Quindi io ero in camera, mi sono riposato un po', abbiamo fatto incontri ieri, anche stamattina, quindi un po' mi sono stancato perché questo nuovo gruppo che si è costituito, diciamo, ha bisogno di consigli e anche di affrontare tematiche che attengono alle cose che io spiego in relazione alla scienza spirituale che è quella scienza che studia le leggi di natura che ci governano. Quindi Thomas mi ha chiamato in camera, dice vieni Pier, la sala è piena, mi stappia per culo ragazzo. E invece era vero, quindi grazie, grazie, siete fantastici. Per un veterano come me che iniziò nel lontano 1988, quando facevamo conferenze o incontri venivano tre persone per fare polemica, gli UFO non esistono, sei un pazzo eccetera eccetera. Oggi grazie a Dio, grazie sicuramente, credo, spero, un po' anche al mio lavoro, ma al lavoro corale dei ricercatori che comunque in questi decenni si sono dedicati a questo tema. Oggi, anche per una maggiore apertura di coscienza nel popolo, oggi abbiamo un risultato di questo tipo che veramente mi onora e mi gratifica tantissimo di tutte le fatiche e anche le disperazioni che a volte in questi 33 anni mi hanno colto. Quindi grazie ancora. So che l'avete già fatto, io ve lo rinnovo. Se volete dare una mano d'aiuto, ovviamente in piena libertà e coscienza per sostenere le spese generali di questo evento. la politica risolverà tutto. Cioè, volete fare polemica pure voi? Ma com'è? Abbiamo un ministro? Omen in omen. Speranza. No? No. Oggi affronto un tema importante, uomo terrestre e uomo cosmico, come prepararsi al contatto con esseri di altri mondi. Io sono un tommasiano, infatti polemizzo con Tommaso, Thomas. Quindi sapete, se avete seguito le mie conferenze, sapete che quando il collega di lavoro, all'epoca ero macchinista, mi parlò di uno che parlava con gli alieni, io gli dissi se non di fesserie. Quindi ero scettico, però siccome avevo avuto parecchie esperienze di avvistamento fin da bambino, decisi, beh, tra il sapere e il non sapere, male che vada mi faccio un giretto in Sicilia, vado a conoscere quest'uomo. Questa curiosità, grazie a Dio, mi ha permesso di avere accesso a un panorama molto complesso. Sono stato fortunato perché la figura di Eugenio è stata una figura cardine che mi ha aperto uno scenario grandioso. Quindi non solo non trovai un pazzo, trovai un grande saggio, un uomo che aveva tutte le risposte, non perché erano sue, ma perché lui veramente parlava con questi esseri evolutissimi che gli avevano spiegato veramente la rava e la fava di tutto ciò che è la creazione nell'aspetto immanente, e quindi materiale, è nell'aspetto trascendente fondamentale che è il mondo delle leggi spirituali che sono quelle da cui poi provengono le grandi leggi che tengono insieme la creazione, elettricità, nucleare debole, elettromagnetismo, vengono dal mondo spirituale. Cioè il mondo spirituale non è un mondo evarescente, è un mondo di energie potentissime che, diciamo così, scala di livello fino ad arrivare al nostro mondo materiale che ha energia bassissima, determinando poi tutti quegli equilibri che reggono l'architettura cosmica. Quindi è una cosa complessissima. Siccome il potere, il potere, inizialmente Mussolini e Hitler, successivamente gli americani nel 1941, incominciano a recuperare astronavi extraterrestri. Quindi comprendono subito l'enorme importanza strategico, commerciale e soprattutto militare di questa tecnologia avanzatissima. Per circa vent'anni non ci hanno capito una mazza perché era tutto troppo distante da quanto esisteva in quel momento. Ma pian piano sono riusciti poi a capire e quindi una volta capendo una cosa, capendo un'altra, siamo arrivati alle grandi tecnologie che abbiamo adesso. Perché se noi guardiamo il panorama storico dell'umanità non c'è ragione che dai romani al 1800 siamo arrivati col motore a vapore, venti chilometri l'ora. Dal 1940 a oggi è successo il finimondo. Così è accaduto? Nella filiera tecnologica terrestre a un certo punto si è cominciato a inserire tecnologia di derivazione extraterrestre. Ecco quindi cellulari, laser, i super computer. Pensate, il primo hard disk di 5 mega era grande quanto una stanza. Il primo computer pesava quintali e sapeva fare solo più per meno diviso. Oggi abbiamo una potenza di calcolo con un semplice portatile che a quei tempi era inimmaginabile. Considerate che adesso non so se Artemis è partita, non è partita. Allora c'è roba militare a bordo e glielo stanno impedendo. Perché dal 72 ci misero l'embargo. Non potete più venire sulla Luna perché volevano fare anche esperimenti nucleari. L'Apollo 13 fu sabotato dagli extraterrestri perché portava a bordo un'atomica da far esplodere sulla Luna. Quindi tutta questa situazione, la presenza di queste civiltà ha prodotto una mole spaventosamente grande di prove. Quindi dal mio punto di vista di ricercatore tommasiano che conta e pesa e vuole toccare qualsiasi cosa, io ho potuto mettere mano e vedere una organizzazione tecnologica, gerarchica, strutturale, industriale, spaventosamente grandiosa e complessa. Questi esseri monitorano 24 ore su 24 l'intero pianeta Terra, compresi tutti e sette e passa miliardi di esseri umani, tutti. Cosa determina questo? Che c'è un potere così grande che è in grado di dire un'ordine e intere civiltà di altri mondi si organizzano, danno il via a una superproduzione industriale per portare sul piccolo pianeta Terra un numero spaventoso di astronavi, mezzi, creare basi, portare piloti, dare loro cibo, alloggio, divertimento, è una cosa pazzesca. Quindi sta avvenendo qualcosa di grande. Il potere l'ha capito. Su questo aspetto l'hanno capito subito, perché già negli anni cinquanta si sono accorti che gli extraterrestri tenevano sotto stretta vigilanza tutte le basi nucleari, tutte le installazioni di produzione, tutti i siti di stoccaggio delle armi atomiche, tutte quante e nessuna esclusa. Cosa hanno fatto? Hanno dato il via a una congiura del silenzio e il tema UFO l'hanno buttato nel teatrino della New Age e del fancazzismo della spiritualità fai da te, togliendo quindi tutto ciò che è realmente questa grandiosa struttura militare, non di guerra, di pace, ma struttura militare, quindi comandanti, sotto ufficiali, ufficiali, caserme, tra virgolette. Quindi in questo mondo sta avvenendo qualcosa di immensamente grande e c'è fortunatamente una parte di società che ha capito o incomincia a capire che qui la speranza è finita, perché i potenti del mondo hanno creato un tale caos, oggi gli è sfuggito di mano, non sanno più che pesci pigliare. L'ha detto un personaggio di altissimo livello, quelli non parlano mai, il Rothschild. Il barone de Rothschild ha detto qualche anno fa, navighiamo in acque sconosciute. quindi il popolo non si rende conto ma siamo arrivati a una condizione di non ritorno. L'unica speranza che ci rimane non è il ministro, quello è senza speranza, come dico spesso, ma ci rimane la speranza di un aiuto esterno che c'è, ci sarà, ma a condizioni. Ci sono delle condizioni, se non loro non muoveranno un dito per chi non si adegua a queste condizioni. Quindi oggi brevemente, perché voglio lasciare spazio anche alle vostre domande, voglio affrontare il tema di cosa deve fare l'essere umano per essere accettato a bordo delle loro astronavi quando qui scoprirà l'inferno, perché questa situazione di guerra che c'è in Europa sfocerà in una cosa terribile. Non si fermeranno, non si fermeranno quelli dell'Oriente, non si fermeranno quelli dell'Occidente. Questa è l'ultima battaglia. Ci sono questi esseri, quindi parlerò di cosa dobbiamo fare e di quali sono i principi di conoscenza scientifica sulla natura che sono indispensabili da conoscere per poter convivere con loro. Perché se noi non maturiamo questi concetti, la convivenza con loro è impossibile, perché le loro società non hanno politici, non hanno il clero, le loro società sono governate solo da scienziati che conoscono le leggi del mondo materiale e conoscono le leggi del mondo spirituale. Quindi sanno che cos'è l'aldilà, sanno cosa accade dopo la morte, possono filmare e registrare, loro sanno tutto. Possono vagliare e mettere sotto analisi la triplice struttura dell'essere vivente, soprattutto l'essere umano che è corpo, anima e spirito. Ecco, il corpo fisico e l'anima sono solo due entità corporee di cui noi spirito ci serviamo per interagire con la realtà. Perché nel momento in cui noi esseri spirituali discendiamo in un mondo materiale abbiamo bisogno di un biorobot. Ecco, questo biorobot è governato da me, che sono lo spirito. L'anima è l'interfaccia che dialoga tra l'immateriale e il materiale input-output, 24 ore su 24, e chi trasmette e riceve le informazioni è il DNA, che è un'antenna che riceve e trasmette in fotoni di luce. È una scoperta del 1970, che avrebbe avuto ricadute gigantesche nel mondo della salute, l'hanno nascosta. E come fai a vendere fotoni? Vendi veleni. Quindi è un discorso complicato. Come sempre inizio consigliando di fare un lavoro a casa, perché se non c'è un impegno nello studio di questa scienza, non se ne viene a capo, perché è una scienza multidisciplinare. È una scienza che abbraccia tutto lo scibile e anche quello che ancora non abbiamo capito della natura. Quindi per poter comprendere chi sono gli extraterrestri meglio che ce lo spiegano loro. Quindi dobbiamo impegnarci, se vogliamo capire, perché questo impegno oggi può rappresentare la differenza tra morire in un holocausto nucleare o essere portati via da missioni di salvataggio di esseri umani di altri mondi. Allora, intanto ho cambiato, adesso è uscito il mio nuovo sito, è questo. Nel sito c'è, nella sezione risorse gratuite, potete scaricare quei 20 libri di cui parlo sempre, se ancora non l'avete fatto. Sono 20 libri scritti da umani, ma sono tutti di origine cosmica, cioè dettati da esseri di altri mondi e dal mondo divino, quindi messaggi anche dal mondo divino. Li abbiamo stampati anche in cartaceo, li trovate al tavolino, come diceva Giovanni, per chi non ama il formato elettronico. Li diamo a un costo giusto per sostenere le spese, perché se li doveste stampare voi in copisteria spendereste di più. Per chi nel futuro, magari in questo momento, non volesse, comunque nel caso volesse informazioni su come riceverli, eccetera, basta che scrivete alla mail info-cosmicshop.it. Un altro bacino di grande importanza per informarvi è il mio canale YouTube, se non l'avete fatto vi prego di iscrivervi, è tutto gratis. Ci sono centinaia e centinaia di ore di conferenze sulle più disparate tematiche, perché, appunto, essendo l'ufologia in relazione meglio a ciò che è la visita extraterrestre, dobbiamo sapere tante cose. E quindi io che sono un ricercatore, un divulgatore, un documentarista, sapete, ho lavorato per la RAI, ho lavorato per tante TV a livello internazionale, e quindi il mio lavoro è ricercare, documentare e trasmettere. Poi, per motivi che attengono a ciò che è stata la mia storia con queste entità che vengono dallo spazio, ho con loro una collaborazione, e quindi loro, nella seconda metà degli anni 2000, intorno al 2006-2007, mi hanno chiesto di lasciare la televisione e di dedicarmi al popolo. Lascia stare lì, tanto ti censurano, cioè non puoi dire tutto quello che scopri. Continua a fare il tuo mestiere, noi ti aiutiamo, ma parla direttamente ai tuoi simili. Digli tutta la verità che tu conosci, non nascondere nulla. Ah, che bello, grazie, sì. Perché mi ero comunque già stancato per questi motivi di quel mondo lì. Poi c'è il sito di Giorgio Bongiovanni, dove lui pubblica i messaggi dal cielo alla terra che riceve da questa entità e anche dal mondo divino. Poi c'è il canale YouTube di Giorgio e anche qui tante conferenze. Per rimanere aggiornati sugli eventi, nel sito c'è la sezione eventi. Se volete partecipare online ai seminari che tengo, si può scrivere invece alla mail per avere informazioni, eventi-nuvocielonuovaterra.it Ho creato un'associazione appunto che si chiama Non a caso Associazione Nuovo Cielo Nuova Terra e anche nella pagina Facebook dell'associazione trovate il link, scusate, trovate la pubblicazione degli eventi. Chi volesse poi ricevere la newsletter in fondo alla home del sito trovate il form per iscrivervi alla newsletter ma potete anche farlo scrivendo la mail segreteria-piergiorgio-caria.it Altro strumento per rimanere aggiornati sui miei eventi è il mio canale Telegram quindi le notifiche vi arrivano direttamente sul cellulare o sul PC. Poi c'è la mia pagina Instagram insomma tante possibilità per chi vuole rimanere collegato, informato e in contatto. I prossimi eventi domenica sarò a Milano con un po' di variazioni ma parlerò dello stesso discorso perché il contatto si avvicina tantissimo. Cioè siamo nella fase di amplificazione della manifestazione extraterrestre che va in parallelo con l'aggravarsi della situazione planetaria quindi più le cose si aggraveranno dal punto di vista delle condizioni climatiche, ambientali, geologiche, eccetera e anche dal punto di vista geopolitico più loro si faranno vedere. Un altro seminario che terrò il 18 di settembre nelle Marche è la terza puntata sul bellissimo e affascinante discorso della Terra Cava. Affronterò il tema, diciamolo, chiamiamolo dell'inframondo che c'è tra la superficie e i continenti interni che risuonano anche da antiche civiltà quindi civiltà perdute, vie segrete verso l'Eldorado e altri incredibili misteri della Terra Cava è il terzo appuntamento su questo tema ce ne saranno molti altri parlerò delle spedizioni dei nazisti delle spedizioni degli americani insomma darò tantissima informazione ovviamente anche quello che gli extraterrestri hanno rivelato su questo tema. I seminari sono, diciamo, i miei veri lavori documentaristi è un abbastanza impegnativo lavoro di ricerca di informazioni e lo faccio sui più disparati temi applicando le logiche della scienza spirituale ad esempio questo seminario che esiste solo online non lo farò mai di presenza L'Ultima Guerra dell'Anticristo il presente e il futuro del mondo secondo la scienza dello spirito meglio il presente e il futuro secondo la scienza dello spirito dove faccio un'analisi storica ma anche profetica anche spirituale sulle vere cause di quello che sta accadendo tra Russia e Occidente che è l'Ultima Guerra poi ci sono altre tematiche bellissime di misteri della storia ad esempio il Principe Immortale e i misteri del Musinè per chi volesse avere informazioni su questi eventi passati basta che scrivete sempre alla mail eventinuovocielonovaterra.it oppure tematiche UFO UFO mentiri a tutti i costi dal cover up alla minaccia aliena dove c'è un percorso dove spiego tutto quello che è accaduto in relazione a quella che poi a dicembre dell'anno scorso dalla menzogna a tutti i costi è diventata legge federale americana che regolamenta la ricerca sugli UFO da parte di tutti gli organismi militari e civili quindi anche la NASA del governo americano non lo so se la gente l'ha capito che adesso c'è una legge ufficiale che regolamenta la ricerca sugli UFO il recupero dell'astronavi il trattamento dei corpi alieni recuperati cioè tutto quello che è sempre stato negato adesso è diventato una legge perché non lo possono più nascondere altro tema la porta dell'inferno è un'analisi sui simbolismi e significati occulti dei diabolici piani per il dominio del mondo da parte degli illuminati e delle massonerie deviate sataniste che hanno fatto con la mostra sull'inferno a Roma un grande rito sacrificale molto pericoloso e l'ho già detto la serie di seminari sulla terracava questo è quello precedente ho altro tema di grandissima importanza nascita, morte e reincarnazione dove affronto il tema delle condizioni spirituali dell'essere umano anche nel post-mortem tutto quello che hanno detto tanto che hanno detto gli extraterrestri questi extraterrestri Dio li benedica ci dobbiamo preparare amici è un fatto concreto non è un fatto di credo il credo lasciamo agli imbecilli ai manipolati mentali è un fatto di ricerca l'UFO è un oggetto quindi se l'UFO esiste si fa una ricerca e si capirà si scoprirà se esiste se è vero se non esiste con una seria ricerca scopriremo che non esiste ecco la ricerca non solo ha scoperto che loro esistono ma tanti o diciamo vari io sono uno di quelli sono riuscito a entrare in collaborazione con questi esseri perché loro per le leggi che regolamentano il contatto tra loro e le civiltà a più basso tenore evolutivo che vogliono contattare non possono interferire col nostro libero arbitrio gli è concesso dalle loro leggi diplomatiche lavorare su una linea di confine vedo o non vedo che per noi è molto difficile da capire perché si basa su logiche antitetiche a tutti i valori della società terrestre cioè loro operano sempre in ragione in equilibrio con le leggi universali che governano il mondo spirituale cioè le leggi del karma quindi karma e gesso che spieghiamo tutto di questo ho parlato tra l'altro abbastanza approfonditamente in un recente seminario che è tenuto zona Modena allora brevissima rassegna sull'attività extraterrestre della più becera ufologia cioè le foto e i filmati questa bellissima foto fa parte di una serie scattata nel Nuovo Messico il 18 aprile del 75 dal signor Paul Villa che era un meticcio che aveva dei contatti con degli esseri credo provenienti dalla chioma di Berenice le foto di Paul Villa nonostante gli anni tanti anni trascorsi sono incredibili questo è un frisbee accompagnato da una sfera di metallo che vengono chiamati sincronizzatori perché è un disco pilotato avrà nemmeno due metri di diametro o al massimo un paio di metri sono sonde robotiche che vengono mandate in giro per fare rilevamenti di qualsiasi genere tipo loro possono anche registrare il nostro pensiero possono diventare immateriali possono attraversare la materia senza scomporla e con questi oggetti o discoidali o sferici loro registrano e ascoltano tutte le riunioni segrete dei potenti hanno in archivio tutto quello che Silvio ad esempio ha detto alle sue donnine tutto registrato magari anche filmato quindi una foto bellissima Paul Villa in quegli anni ancora nel 65 la CIA era violenta poteva anche uccidere se c'era qualcuno che rompeva le scatole contro l'insabbiamento delle prove sugli UFO quindi Paul Villa è stato screditato attaccato da tutti perché ovviamente l'ufologia è sempre stata infiltrata dai servizi e il loro uso comune quando c'è qualcosa che disturba il sistema quindi questa fa parte di una bellissima serie di foto io ne ho scelta una alla fine l'oggetto tira fuori tre piedini e atterra quest'altra foto è stata scattata nella Columbia Britannica nel 1981 a Kelsey Bay isole Vancouver vedete è un disco un piccolo disco questo è pilotato ha una cabina palesemente di materiale trasparente ed è stato fotografato sopra le pendici di questa montagna questo invece è un filmato che è stato registrato dal signor Mauricio Ruiz ad Alvin in Texas l'11 aprile del 2008 il video è rovinato perché il signor Ruiz poi facciamo all'epoca una grande indagine su questo caso assolutamente reale la telecamera che lui usò era una telecamera ancora analogica quindi con la cassetta a nastro e praticamente quando lui metteva il nastro essendo stata la telecamera impregnata dell'elettromagnetismo del disco che è vicinissimo molto basso praticamente il nastro lo ha rovinato cioè gli mangiava lo strato di ossido metallico che è lo strato su cui venivano registrate le informazioni di quel tipo di tecnologia di ripresa video sentirete ansimare perché accade questo Ruiz esce la mattina prima di andare al lavoro per dar da mangiare al suo cagnetto e come esce si trova davanti sto disco è un cielo bianco nebbioso mattutino sto disco bassissimo e allora Ruiz si mette così con una mano filmava con l'altra carezzava il cagnetto per tenerlo tranquillo perché un po' era agitato vedete il tetti delle case ecco l'oggetto vedete le linee di flusso magnetico e il nastro della telecamera che all'inizio era sano ma pian piano si rovina perché ogni volta che Ruiz lo passava l'impregnamento elettromagnetico della telecamera lo distruggeva tra l'altro gli si rovinarono il forno elettrico gli orologi a led eccetera perché il campo elettromagnetico di un oggetto così basso è molto potente vedete sono le vecchie telecamere video 8 vedete la data 11 aprile 2008 7.23 del mattino vedete appaiono queste pixelature che sono i punti di interferenza magnetica che l'oggetto generava poi vediamo un filmato stabilizzato e vedremo che il disco ondeggia col classico movimento a foglia morta e le luci sottostanti al disco ruotano il disco è stato analizzato all'università messicana di città del messico dopo vi faccio vedere due immagini di come lo strato di ossido del nastro era rovinato quindi un'immagine chiarissima di un'astronave extraterrestre sopra la cittadina di Alvin tra l'altro si fuse anche il trasformatore elettrico che distribuiva la corrente nel quartiere dove viveva Ruiz e il giorno dopo sono venuti gli operai della compagnia elettrica per ripararlo perché i campi che generano questi oggetti sono molto 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 potenti riescono a torcere anche lo spazio-tempo io ho avuto modo di parlare con degli scienziati e dicono non riusciamo a capire come oggetti relativamente piccoli possano generare energie spaventosamente grandi vediamo il filmato stabilizzato e ribadisco l'immagine è molto instabile perché Ruiz filmava in una condizione molto scomoda ecco questa è una una coppia all'inizio vedete il nastro è ancora abbastanza integro vedete le luci sottostanti del disco vedete come ondeggia quindi non può essere un modellino non può essere appeso a un filo quindi è un oggetto di vari metri di diametro che Ruiz ha filmato sopra i cieli della città di Alvin ripeto video analizzato è assolutamente constatato come non manomesso questi sono gli strati di ossido che di solito sono piani invece tutto vedete è tutto pieno di avvallamenti perché l'energia ribadisco di cui era rimasta impregnata anche la telecamera lo aveva rovinato queste sono immagini fatte ovviamente in un laboratorio universitario abbastanza attrezzato perché per fare questo tipo di immagini o di analisi non è che vai dal fotografo altro caso che ho investigato personalmente ci sono andato nel 2010 città di Kumburgas Turchia a circa 80 km da Istanbul e questo signore di nome Yalcin Yalman simpaticissimo fumava come un turco proprio avete presente l'inus con la coperta e la polvere ecco Yalcin era con la sigaretta e la nuvola di fumo sempre praticamente Kumburgas è una località di mare Yalcin faceva al guardiano notturno delle ville nel periodo che sono disabitate per proteggerle ovviamente dai ladri o da vandali eccetera a un certo punto incomincia a vedere questi oggetti a forma di delta e lui si procura una abbastanza sofisticata telecamera e incomincia a filmare questi oggetti ma la cosa strabiliante è che in questo video vedrete la cabina di pilotaggio anteriore che è trasparente si vedono le teste dei due piloti che nel caso di Yalcin sono i classici grigi testone a glabra con i grandi occhi Yalcin fu violentemente attaccato dagli scienziati turchi che lo sfidarono ad andare in tv e a sostenere sia un colloquio e sia a dare loro nelle mani i nastri originali perché loro dicevano avrebbero dimostrato che Yalcin era un truffatore che vendeva fumo lui ha accettato e meno male gli scienziati sono stati onesti hanno detto questo materiale è assolutamente reale gli oggetti che questo signore filma sono di grandissime dimensioni e non sono modellini non non possiamo dire che cosa siano ma non è un trucco io sono stato a Kumburgaz ho intervistato Yalcin insomma e lui mi ha dato tutti i filmati originali vedete l'oggetto si illumina da solo si sente il rumore del mare perché le filmava dallo schiaggia vedete le teste dei piloti non si capisce come l'oggetto potesse autoilluminarsi perché non c'è una fonte di luce esterna sono astronavi a forma di delta abbastanza alte la telecamera che usava Yalcin era un'ottima telecamera Sony e in questo video lui appunto ma ce ne sono anche altri e sono state fatte poi delle elaborazioni dove quello che emerge è proprio la classe il classico volto dei cosiddetti grigi quindi materiale ce n'è veramente aiosa questo invece è un filmato nel pueblo di Taxco in Messico il signor Hector Garcia ha filmato varie volte le classiche sfere di luce questo filmato è molto bello perché la sfera addirittura scende a livello delle case gira un po' ad altezza delle finestre e poi se ne va nella foresta ho detto prima quando ho mostrato il frisbee che sono sonde telemetriche di rilevamento possono indifferentemente diventare o di energia oppure metallo perché loro questi esseri hanno la capacità di mutare la materia in energia e viceversa mantenendo la coesione strutturale è una sfera credo di forse un metro non di più vedete inizia a scendere io ne ho viste parecchie in giro per il mondo di questi oggetti li ho visti da soli anche in formazione vedete scende scende sempre di più si incominciano a vedere i tetti delle case casette casupole è un piccolo pueblo vedete addirittura scende a livello della finestra adesso passa qua sotto non si vede e risbucca in questa zona eccola qui riscende quindi ha un movimento erratico ma coerente questa è una serie di foto recentissima del 17 agosto di quest'anno guardate che bello il signor Juanito Juan è un abitante di Valle Ermoso nello stato messicano di Tamaulipas Valle Ermoso è un piccolo piccolo 60.000 abitanti anni fa ero a città del Messico con un amico giornalista avevamo finito tardanotte di montare un video la mattina mi sveglia e mi dice Pier guarda devo fare una conferenza in una università in un pueblo qua vicino mi accompagni? detto scusa ma qui in Messico avete le università nei pueblo? beh sì è un piccolo pueblo saranno due milioni di abitanti e praticamente questo gruppo di studenti aveva preparato una tesi sulla visita extraterrestre avevano invitato quest'amico che era un ricercatore faceva anche televisione e lui mi invitò poi siccome già all'epoca masticavo un po' di spagnolo mi fu chiesto di parlare perché per l'università avere un ospite italiano fu un grande onore infatti mi diedero anche una targa che non so dove sia finita e io feci una relazione parlando a braccio ovviamente della mia esperienza di Eugenio Siragusa e del perché questi esseri sono qui quindi il signor Juanito Juan vede arrivare queste pesanti nuvole temporalesche piglia il suo Samsung e dice vado fuori e scatto qualche foto solo come esce in strada si trova davanti questa sberla di disco volante si dimentica che aveva settato il telefono in modalità foto lui pensava di filmare invece fa tre scatti il disco era perfettamente immobile ma dopo il primo scatto incomincia a salire riesce a fare tre scatti fa per switchare da foto a video ma in questo semplice frattempo il disco schizza via e scompare è interessantissimo perché il disco è accompagnato da un sincronizzatore lo stavo dicendo prima non l'ho detto i campi elettromagnetici vorticosi che ruotano intorno al disco dall'interno rendono difficile la visione a breve distanza e quindi loro usano delle sonde orbitali che orbitano intorno al disco ovviamente telecomandate che fungono da visore per le immediate vicinanze del disco qui vedete ho sovrapposto le tre fasi rispettando la posizione rispetto alla casetta sottostante vedete questo è il movimento che fa il disco nei tre scatti per poi schizzare via vediamo gli ingrandimenti qui notiamo altri particolari interessanti qui si vede meglio il sincronizzatore vedete e se un oggetto è un modellino piccolo la luce solare lo avvolge tutto cioè non si creano questi contrasti così netti tra zona illuminata e zona in ombra poi quando gli oggetti sono grandi la zona di riflesso del sole è piccola quindi già occhio tu capisci se quella foto dei video sono veri o falsi lo capisci subito dalla reazione di riflesso della luce sull'oggetto che è stato o ripreso fotografato o filmato quindi questo era un breve scursus era un po' che non facevo vedere di schivolanti è aumentata tantissimo l'attività al confine tra Messico e Stati Uniti ci sono avvistamenti quasi tutti i giorni poche settimane fa c'è stata proprio un'ondata massiva di avvistamenti in un'altra zona di frontiera e quindi sta succedendo qualcosa tra l'altro Vagliarmoso sta proprio a sei ore di macchina sulla verticale c'è Houston che è la zona dove poi stanno cercando di far partire il missile quindi l'attività extraterrestre prosegue molto intensa in giro per il mondo vengono generati continuamente materiali straordinari che dimostrano un fatto inequivocabile ora a bordo di questo oggetto ci sono ingegneri ci sono piloti ci sono persone che hanno formazioni scientifiche professionali che noi ce le possiamo solo sognare considerate che l'istruzione media di un bambino dell'asilo extraterrestre è pari a quella di un ragazzo di 30 anni plurilaureato all'asilo perché le loro tecniche di memorizzazione cerebrale sono avanzatissime e usano supporti tecnologici che accelerano enormemente l'immagazzinamento di nozioni cioè loro di fatto riescono a imprimere nel cervello l'informazione come se fosse un hard disk quindi non è come qui che ti devi spaccare la schiena sui libri caos mondiale e visita extraterrestre oggi abbiamo una situazione di gravissima crisi mondiale a tutti i livelli a tutti i livelli e tutti noi percepiamo che ci deve essere un cambiamento abbiamo sperato fino a ieri nella politica ma è stata solo una grande presa per i fondelli perché tutto ciò che la politica ha promesso nei decenni quindi dal 48 oggi della Repubblica Italiana è sempre stata una solenne presa per il sedere quindi da quel mondo lì non può venire nulla ma c'è un problema il politico emerge dalla società quindi il politico non è un'entità a parte della società il politico è l'espressione di ciò che è il popolo questo ce lo ha dimostrato in modo inequivocabile quello che è accaduto col movimento del comico era un movimento comico ma ci abbiamo sperato perché fino a quando erano popolo gridavano accusavano ci sentivamo tutti finalmente glielo stiamo dicendo sulla faccia entrano nella stanza non dei bottoni che i bottoni stanno da un'altra parte ma entrano nelle comode e ben pagate sedie del Parlamento e diventano i nostri peggiori nemici hanno tradito tutto nel modo peggiore al punto da farci rimpiangere delinquenti come Craxi e Andreotti poi Andreotti aveva un vantaggio se riuscivi a fregargli la scatola nera avevi tutte le prove quindi i valori del popolo sono quelli delle élite che comandano noi vogliamo carriera noi vogliamo soldi noi vogliamo sesso noi vogliamo successo noi vogliamo apparire siamo ammalati di protagonismo quindi non ci sarà mai per pura logica che dal mondo della politica discende la soluzione ai problemi che il popolo crea qual è la strada votare il 25 aprile anche perché per fare campagna elettorale il minimo devi avere in tasca due milioni di euro do li pigli qualcuno te li deve dare ma chi ti dai soldi dice però poi fai come ti dico io funziona così quindi dal mondo della politica non arriverà mai una soluzione perché chiunque va in politica è l'uomo vecchio abbiamo bisogno di un nuovo uomo abbiamo bisogno di una nuova visione della vita e chi ce la dà questa visione della vita quindi qualsiasi rivoluzione nella storia è comunque nata da un rinnovamento culturale della società da nuove idee per quanto fosse sbagliato il comunismo ha generato ad esempio il partito comunista italiano che è stata una eccezione o il Che Guevara ma il Che Guevara è morto solo come un cane in una giungla della Bolivia perché il popolo e il suo migliore amico lo ha tradito Fidel che da Fidel è diventato infidel perché alla fine è sempre e solo comunque una questione di potere alla fine tu fai la rivoluzione armata ma scusa le armi chi te le vende sempre quelli quindi qual è la soluzione? che cambiamo noi perché siamo noi il popolo che abbiamo il potere noi siamo le gambe del tavolo su cui loro pasteggiano con la loro bella panza piena tutti c'è un sacco di gente che non lavora e vive sulle nostre spalle lautamente pagata e ci fregano e ci rubano e ci mentono e ci ingannano e ci sbeffeggiano l'avete vista la foto tutti allegramente sotto l'ombrellone del bar? quelli sono amici quando litigano in tv fanno finta ma poi fanno accordi si spartiscono le poltrone sono un'unica cricca quindi a me è stato proposto in questi anni parecchie volte di entrare in politica mi ha detto se se no no io ho fatto il militare e grazie agli studi e all'esperienza che ho maturato negli anni ho capito che alla fine è solo una questione di potere e di soldi sempre tutto quello che ci viene detto i valori l'umanesimo una gran balla balla bullo bal zabub il signore delle mosche satana bal zabub balla bullo bull in inglese viene dal nome di satana nella bibbia bal zabub balle perché dice la madonna fatima satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose quindi cosa dobbiamo fare non delegare più a nessuno vi giuro per i miei problemi di salute o per gestire i soldi che devo usare per fare quello che faccio non ho mai avuto bisogno né del ministro delle finanze men che meno del ministro senza speranza ho una testa non dico come lui perché lui ha un'altra testa che non vi dico qual è è una testa senza speranza cosa dobbiamo fare smettere di delegare ficcare sto culo sulla sedia e studiare e applicare lo studio e liberarsi di questa gentaglia non lottare contro denunciarli sì additarli sì se sono corrotti ma non belligerare cambiamo noi se nessuno più li cacca di striscio sono finiti loro cercano il consenso senza il consenso sono morti quindi io non devo fare nessuna lotta perché a litigare da soli si fa fatica quindi se noi usiamo questo semplicissimo stratagema che è ignorarli ed evolverci è finita mettetevi la mutanda sulla faccia come ci hanno detto in questi due anni a StarSheran si è girato mi ha detto chi ha detto? non lo so mi ha detto mettetevi la mutanda ma quello che dice sta gente io non lo ascolto io so che cos'è un virus so come curarmi mi informo oggi c'è anche internet negli anni 80 era un bel problema cinclopedie pesavano 50 kg oggi è facile vai cerchi trovi tutto vai su PubMed fai tradurre a Google Translate e sai hai in mano tutta la scienza più avanzata del pianeta solo che il popolo è comodo non ho mai capito perché il popolo abbia scelto giusto le chiappe per conservare i piombi da sommozzatore che poi fa fatica alzarti pesano ecco dobbiamo darci da fare perché vedete il delegare a loro ci ha regalato solo un sacco di problemi e una brutta vita e noi ci siamo ammalati psichicamente me lo spiegate la logica tale per cui ciascuno di noi deve pagare per vivere perché perché devo pagare per vivere avete mai visto uno scogliato guadagnarsi i soldi per pagare le ghiande perché in questo mondo l'umanità è impazzita e deve pagare un altro essere umano per vivere ma scusa non siamo nati tutti dal ventre di mamma quindi abbiamo tutti diritto al nostro piccolo pezzetto d'aria d'acqua di terra e di cibo cosa dobbiamo fare? ci organizziamo creiamo strutture estraiamo trasformiamo distribuiamo fine del problema non c'è bisogno dei soldi se tutti concorriamo con la nostra creatività al bene della società ma io c'ho bisogno di un parlamento? ma io c'ho bisogno di un banchiere? no voi in famiglia che fate quando vostro figlio entra a fare pranzo paga è cocco bello non è che qui si mangia gratis che fanno i genitori? acquisiscono risorse e distribuiscono equamente in famiglia questo è il significato vero di economia le cose di casa perché i soldi sono creati dal nulla da altri esseri umani quindi noi dobbiamo pagare altri esseri umani per avere pezzi di carta ma l'abbiamo scelto noi basta non usarli più fine del problema ci organizziamo cerchiamo il fabbro il contadino facciamo come si faceva un tempo ma siamo ormai talmente ipnotizzati da questa menzogna e da questo inganno che siamo diventati schiavi dei creatori di soldi dal nulla siamo schiavi perché se io dessi a ciascuno di voi 50 milioni di euro cash alzi la mano che cambierebbe vita vediamo che cambierebbe vita con 50 milioni di euro in mano cambieremo vita io credo la maggioranza anche che non avete alzato la mano allora se noi facciamo una vita che non ci piace e l'unico problema è la quantità di cartaccia che abbiamo in tasca o nella carta di credito siamo schiavi di chi stampa denaro e stiamo vivendo una vita che non ci appartiene ragionateci su questo concetto perché è molto importante e per quanto ne sappia io la vita di ciascuno di noi non ha prezzo è noi che decidiamo di svenderla perché siamo stati abituati da genitori mai emancipati a essere schiavi questo è il problema che abbiamo non riusciamo a organizzarci noi dobbiamo sempre avere un presidente un ministro un re un imperatore un cardinale un papa che si sono sempre fatti gli affari loro ma i nostri ci hanno sempre sfruttato e basta dimostratemi il contrario quindi dobbiamo cambiare ci vuole una riforma radicale dell'essere umano radicale ci vuole un essere umano che comprenda bene le vere cause che hanno generato la situazione disastrosa che stiamo vivendo ci vuole un essere umano che sappia trovare le soluzioni per la propria vita e per la società perché questo si può fare è solo questione di un giusto sforzo e di aiutarci tra noi il più bravo aiuti il più debole il più forte sollevi chi non ha forza questo dobbiamo fare perché noi siamo la vera fonte del potere di questi criminali prendete i potenti del mondo con tutte le loro ricchezze metteteli sull'isola deserta di fianco a un casco di banane chiamate le scimmie e vedremo cosa scelgono di portare via l'oro sono potenti solo perché hanno popoli da schiacciare e dominare ma se stanno insieme sono un branco di coglioni con roba che non vale nulla l'oro non serve a niente perché l'oro deve essere simbolo di ricchezza ma dove sta scritto non si magna non si beve non si respira si ci fai qualche gingillo ma me lo spiegate perché io devo fare un buco in terra prendere un pezzo di metallo lo trasporto in un cavo e divento ricco ma che cacchio di logica è? nel momento in cui non c'è più acqua più cibo più aria ma che ti respiri l'oro ti respiri i soldi ma siamo impazziti? si siamo impazziti per accumulare soldi e presunte ricchezze che sono solo inganni stiamo distruggendo l'unica cosa che conta realmente il nostro pianeta per ottenere questo risultato abbiamo necessità di reale e nuova informazione che ci permetta di realizzare quella nuova visione della vita senza la quale nessun sostanziale cambiamento è possibile ce lo dimostra la storia cosa ci dimostra la storia tutti i grandi imperi tutti i grandi imperatori tutti coloro che si sono autoglorificati autodeificati i grandi cesari i grandi eserciti di Roma forza Roma dove sono oggi polvere storia passata sono caduti perché le leggi universali sono inflessibili sono leggi l'uomo non fa leggi l'uomo fa decreti regolamenti decreti legge ma l'essere umano non è in grado di fare leggi le leggi le fa la natura legge di gravità legge dell'elettromagnetismo quelle sono leggi perché sono inviolabili se una legge si può violare e ingannare non è più una legge la chiamano legge ma è un inganno ah ma lo dice la legge ma quale legge? la legge dice che se ti butti dal settimo piano di un palazzo senza paracadute c'è l'asfalto ti sfracelli al suolo quella è una legge ma quelle che facciamo noi sono solo prese per il sedere tentativi di ingannare il popolo perché quelle leggi difendono solo i criminali in due anni è stato violato tutto ciò che si poteva violare anche di più sono stati talmente geniali che hanno violato anche quello che già non serviva tutti magistratura polizia carabinieri guardia di finanza medici infermieri un branco di criminali un popolo quello italiano di criminali un popolo da aperitivo solidale appena ci hanno ridato la libertà sono finite le proteste ma come? c'è la guerra l'Italia è entrata in guerra gli ne frega niente a nessuno hanno chiamato risveglio le proteste contro il certificato verde no, era solo per andare al bar a fare l'aperitivo al cinema in palestra non era risveglio era follia la follia è non fare niente perché la NATO ci sta trascinando nella terza guerra mondiale contro la più grande potenza nucleare del pianeta che si chiama Russia questo sta facendo questo branco di criminali che occupano abusivamente il parlamento è il popolo che fa l'aperitivo solidale no, adesso possiamo andare al bar quindi non serve più fare l'aperitivo in piazza ma che gente siamo? quindi i pro e i contro in realtà due facce della stessa medaglia cioè dell'incapacità del popolo di pensare in modo alternativo quindi abbiamo bisogno di un essere umano che comprenda bene le vere cause che hanno generato questa situazione che possa trovare le soluzioni la politica non ce la darà nemmeno la religione nemmeno la finanza non ce la darà nessuno la soluzione ce la dobbiamo cercare noi non c'è soluzione amici ce lo dimostra la storia questa nuova visione della vita chi ce la dà? i piloti quei piloti che su quelle belle meravigliose barchette volanti a forma di disco vengono per portarci una grandiosa riforma del sapere umano una grandiosa meravigliosa informazione che può fare di noi una cosa completamente diversa io facevo il ferroviere nemmeno nei miei sogni più arditi avrei mai immaginato di fare quello che faccio oggi non è possibile ma c'è un intervento un aiuto di esseri che sono così evoluti così potenti che sono sembrano dei maghi hanno il dito magico ti toccano e tu diventi un'altra cosa sono esseri potenti saggi e pieni d'amore un concetto impossibile su questo pianeta perché il concetto di potente è sempre accompagnato al concetto del gabinetto sapete no? gabinetto cosa succede? ecco il potente è sempre un tiranno a volte evidente Pinochet Hitler a volte mascherato da regime democratico sempre potente sempre tiranno sempre bugiardo sempre ingannatore e noi sempre cretini quindi questa informazione esiste e proviene da una fonte eccezionale volutissime civiltà extraterrestri in visita sul nostro pianeta sono loro i principali protagonisti di una grandiosa innovazione culturale che viene offerta all'umanità un insieme di informazioni in grado di formare un essere umano che finalmente possa raggiungere gli obiettivi sinora falliti da migliaia di anni ed entrare in contatto con loro e convivere con loro ma se noi non maturiamo questi valori non potremo vivere con loro non ce la faremo perché le loro società sono all'opposizione della nostra quindi dobbiamo fare un lavoro quindi nei primi anni 50 inizia a diventare famoso a livello mondiale il fenomeno del contattismo dove questi esseri sceglievano esseri umani particolarmente vagliati e sondati con i loro strumenti scientifici a cui fornivano questa informazione perché parallelamente a questo loro contattavano i potenti del mondo tutti li hanno contattati anche in America Latina non solo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti la risposta è sempre stata no dicevano sai il popolo non è pronto ma se mai lo prepari mai sarà pronto in realtà difendevano solo la poltrona molto comoda sul quale si sedevano quindi attraverso il contattismo intanto hanno detto e messo in risalto la loro enorme preoccupazione per l'uso del nucleare e quindi per il rischio di una terza guerra mondiale ma dopo insistevano su un concetto per noi non facilmente è comprensibile di mettere la tecnologia sotto controllo etico ovviamente soprattutto quella atomica e militare e di mettere equilibrio tra le scienze materiali e le scienze spirituali di cui noi non sappiamo un fico secco perché le abbiamo relegate nella follia dei credo religiosi di cui parlerò per questo motivo da allora per aiutarci a capire questo tipo di discorso e di necessità che è la vera causa dei nostri gravissimi drammi hanno trasmesso attraverso i contattisti un'enorme quantità di informazioni nel campo di questa scienza che è praticamente quasi sconosciuta all'umanità lui è stato il mio padre spirituale Eugenio Siragusa tra l'altro Eugenio è stato il principale portavoce di una grandiosa rivelazione e cioè che quelli che noi nelle sacre scritture abbiamo chiamato angeli sono quelli che oggi chiamiamo extraterrestri perché il cosmico e il divino si uniscono attraverso la scienza perché Dio non può essere un credo Dio è una persona come noi semplicemente ha un'evoluzione inimmaginabile ma Dio è una persona ha personalità è un'entità intelligente che ha potere questo Dio noi abbiamo relegato tu credi in Dio sì e poi ci credo e allora finisce lì che devo fare vado a messa ma tu conosci Caria sì sì io ci credo che esiste ma le ascoltate le sue conferenze no tanto credo che esiste non ho bisogno ma credi che esiste che significa perché perché se Dio se tu credi che Dio esiste Dio è onnipotente beh sarà interessante capire come ragiona sto Dio invece credere che esiste e ignorarlo è una gran presa per il sedere cioè è un atto di follia credi che esiste il cibo sì sì ne sono certo lo mangi? no come no? ma senza il cibo muori ma sì no ma io ci credo sto a posto se noi crediamo in Dio ma non lo frequentiamo nel modo in cui a lui piace noi moriremo anzi peggio nel suo piccolo anche lui si incazza e quando nel suo piccolo Dio si incazza distrugge le umanità vi ricordate Sodoma e Gomorra il diluvio universale ma lui le fa davvero queste robe quindi Dio bisogna capire chi cavolo è come ragiona che fa e gli extraterrestri ci portano questa scienza quindi chi sono i contattisti? nell'antichità li chiamavamo profeti perché ricevevano da questi esseri informazioni sul futuro perché una delle leggi che governa l'universo la principale tra poco ve la spiego quindi in questi contatti gli extraterrestri hanno dato preziosissime informazioni che sono fondamentali imprescindibili necessarie affinché noi possiamo formarci una visione della vita che non è una ideologia non è una opinione extraterrestre la loro visione della vita è basata sulla scienza matematicamente esatta delle leggi universali che dà modo a queste società di raggiungere un livello di benessere per noi inimmaginabile ad esempio loro si possono permettere l'astronave per tutti ve lo immaginate che tutti voi avete accesso a un'astronave? ma che tipo di potenza economica deve avere una nazione per rendere possibile il viaggio spaziale a tutti? anzi è obbligo di legge devi viaggiare nel cosmo devi conoscere la bellezza e la magnificenza della creazione e rispettare il potere che quella creazione l'ha creata l'ha formata così ragionano questi personaggi quindi loro Dio lo conoscono e ci parlano e Dio gli dà ordini andate sulla terra che lì c'è brutta gente sulla terra ci sono i peggioni alieni negativi della galassia stati attenti che quelli prima sparano e poi chiedono chi sei quindi senza questa nuova visione della vita non ci possiamo preparare al grande contatto essendo loro più evoluti di noi sono loro che devono darci il come non noi infatti io sento pseudo esperti che cianciano no ci dobbiamo organizzare lo chiediamo al Papa lo chiediamo al Presidente delle Nazioni Unite lo chiediamo a Topo Gigio lo chiediamo a questo scusa ma gli extraterrestri che dicono? eh? gli extraterrestri che dicono? vabbè che c'entra ma scusa ci dobbiamo preparare al contatto con loro ci servirà il loro parere ecco gli ufologi credono agli ufo ma non credono agli extraterrestri guardate che è così davvero cioè pensano che comunque l'essere umano è più importante di loro quindi noi dobbiamo decidere dove programmare il contatto dei pazzi invece gli extraterrestri hanno dato ampia informazione quali sono i valori imprescindibili per contattare e convivere con loro scienza della materia scienza dello spirito quindi loro hanno messo mano a uno degli aspetti più ingannevoli delle strutture della società umana le religioni quindi tutto ciò che è stato relegato nei credo religiosi loro lo hanno preso a pale papale e lo hanno portato nell'alveo di ciò che è la sua corretta collocazione la scienza perché? per un fatto ovvio siamo uno spirito? sì sono in questo momento dentro un corpo? sì ecco mi spiegate perché il corpo deve essere tema di scienza e quello che ci sta dentro è un tema di credo religioso ma non è una follia la struttura che lega il mio corpo a me spirito che cos'è? un credo? una pagina del Vangelo attaccata con lo scotch spirituale? ci sarà una struttura energetica fatta in qualche modo che mi permette di governare sto corpo infatti quando noi ce ne andiamo dal corpo diciamo Poretto Caria è morto no ha lasciato il corpo avendo Caria ha lasciato il corpo il corpo non funziona più ero io che lo facevo funzionare perché lo spirito è la vita se lo spirito è la vita lo spirito non può morire è come dire che il fuoco vi bagna no il fuoco brucia è la sua qualità intrinseca ciò che è vita e genera vita non può morire per antonomasia muore ciò che è stato suscitato a vita dalla vita ma quando la vita se ne va da ciò che è stato suscitato a vita ritorna da dove è venuto cioè nel mondo degli elementi di natura calcio, magnesio, ferro, eccetera eccetera cioè noi siamo fatti di terra polvere siete e polvere tornerete no, tu nonno è polvere io sono lo spirito figlio di Dio temporaneamente incarnato in un corpo tutti siamo questo non siamo altro quindi siamo una cosa molto importante questa traslazione ha dato così fastidio che Eugenio Siragusa è stato vittima di un complotto e si è cercato di ucciderlo in carcere gli extraterrestri hanno contattato le istituzioni hanno detto se voi fate del male a quest'uomo radiamo al suolo a Catania il direttore del carcere chiamò Eugenio perché gli extraterrestri atterrarono nel cortile del carcere uno degli esseri fu visto levitare all'altezza del finestrino della cella dove Eugenio era incarcerato il disco atterrò nel cortile del carcere c'era un piccolo orto e disidratarono tutta la verdura che vi era coltivata il direttore chiamò Eugenio e gli disse signor Siragusa per favore gli dica ai suoi amici alieni che non la portino via con la cella chiusa se ne ho io che cavolo gli racconta ai miei superiori che lo disse davvero gli avvelenavano il cibo a Eugenio credo col cianuro lui aveva un po' di pancia ma non moriva lo proteggevano e alla fine dopo cinque mesi lo hanno liberato cioè caddero tutte le accuse e Eugenio fu assolto con formula piena ma dava molto fastidio all'istituzione di potere religioso quindi dall'alveo della religione i grandi temi della nascita della morte della reincarnazione del karma o legge di causa effetto fanno parte di un corpus che è racchiuso all'interno di quella che è da loro appunto chiamata scienza dello spirito aspetto fondamentale senza il quale la scienza della materia va in disquilibrio generando un processo autodistruttivo irreversibile perché oggi anche che noi eliminassimo tutti gli eserciti del mondo tutte le armi del mondo tutte le atomiche e le centrali nucleari il solo sistema industriale che produce beni di consumo sta distruggendo l'ecosistema moriamo comunque perché tutto è corrotto tutto è criminale tutto è venduto da una classe di dirigente assassina e senza morale e da un popolo idiota che si fa rubare anche le mutande pensando invece di essere chissà che cosa io non voglio offendere nessuno quindi a volte uso parole forti perché cerco di spronare un po' a uscire da questa malsana apatia che ci sta costando il futuro nostro e dei nostri figli perché il mondo sta morendo e non lo vogliamo accettare è un pensiero così grave che ci fa paura messaggio ricevuto ad Eugenio Siragusa il 19 agosto 1982 scienza della materia scienza dello spirito sono i due aspetti esibizionistici cioè manifestativi e sperimentativi dell'intelligenza ogni creante termine alieno per indicare ciò che noi chiamiamo Spirito Santo questi due sono valori complementari che devono stare in perfetto equilibrio per stabilizzare l'evoluzione delle specie nel processo manifestativo del continuo divenire perché continuo divenire perché siamo, porco Giuda eterni noi siamo eterni ci reincarniamo ma perdiamo la memoria delle vite passate perché la legge di causa-effetto ci costringe alla compensazione perché ce la dobbiamo far finita di essere belligeranti noi siamo sempre belligeranti con chiunque dice il Signore laddove in mio nome saranno due o più io sarò in mezzo a loro ecco, prendi due esseri umani due o più subito c'è il demonio pettegolezzo, critica, invidia, gelosia, maldicenza questo è l'essere umano medio sempre abbiamo un sacco di tempo per farci gli affari degli altri mai per farci i fattacci nostri pretendiamo di sapere tutto e giudicare le azioni di chiunque mentre la nostra vita è devastata dalla sofferenza e dai fallimenti questa è la verità e la dobbiamo guardare in faccia perché se io vado da un dottore e io ho il cancro e il dottore mi dice che l'unghia è incarnita io vado a morire se invece il dottore ha coraggio e mi dice lei ha il tumore, signor Caria si deve curare deve cambiare stile di vita perché il tumore non è venuto dal mondo chissà dove il tumore e la malattia viene a causa del nostro stile di vita e noi vogliamo tutto tranne che cambiare il nostro stile di vita l'avete mai capito? questa cosa è semplicissima la gente va dal dottore dottore ho mal di gola lei fuma? sì ma che c'entra? ho mal di gola? mi dia una pastiglia, uno sciroppo? no ma lei deve smettere di fumare no dottore io ho mal di gola voglio la pastiglia per il mal di gola cioè toglieteci tutto tranne i nostri vizi parlateci di tutto tranne che delle nostre debolezze ma non ne veniamo a capo amici la condizione spirituale si può modificare lo possiamo fare abbiamo solo bisogno di smetterle di aver paura di rimbocarci le maniche e iniziare a percorrere un cammino meraviglioso di trasformazione e farla finita con sta schiavitù questi esseri sono qui per questo motivo per questo i potenti dicono la verità quando dicono sono una minaccia ma non per noi, per loro perché il giorno che questi qui atterrano finita la cuccagna purtroppo è finita per i potenti ed è finita per il popolo ignavo che non ha fatto nulla ed è stato connivente con un potere criminale dobbiamo cambiare abbiamo bisogno di cambiare dobbiamo farlo se non la pagheremo cara legge di causa-effetto estratto di uno di quei libretti di quei libri che vi ho detto potrete imparare i segreti della vita e della morte potrete ridare la vita a una forma ma riuscirete a eliminare da essa il terrore l'egoismo, le gelosie, le invidie, l'avidità e l'odio? potrete mai instillare un senso di assoluta fratellanza nell'intelletto umano? no! questa è un'opera che spetta ad ogni individuo nessuno può cambiare il carattere di un uomo se non lui stesso gli si può insegnare come fare ma come sarà possibile anche soltanto questo quando coloro che sono alla guida del progresso morale e psicologico hanno corrotto il senso delle leggi cosmiche? gli uomini sono troppo inclini a considerare la civiltà attuale una realtà permanente altre civiltà sono apparse e tramontate e per l'intelligenza suprema anche la maggiore di esse non fu più che un grallinilo di polvere vagante nell'aria che appare per un solo istante alla vista nell'attraversario un fugace raggio di sole così ragionano gli extraterrestri per questo il potere li teme e li odia hanno idee grandiose per il popolo che è la fonte del potere dell'élite che ci tiene schiavi con pezzi di carta vuoi mangiare? devi avere un pezzo di carta se no non mangi muori cioè una creazione umana è diventata più importante della creazione divina perché Dio non ci ha chiesto i soldi per darci un corpo quando noi recitiamo il Padre Nostro e diciamo rimetti a noi i nostri debiti ma che debito abbiamo con Dio? questo possiamo sperimentare grazie al corpo il corpo è di così alto tenore scientifico che i nostri scienziati lo studiano e non ci hanno capito una mazza è troppo sofisticato autorregolazione termica autorregolazione della pressione esterna interna ogni centimetro quadrato del nostro corpo ha un chilo d'aria che gli pesa e il corpo genera un chilo di forza che spinge mantenendo l'equilibrio infatti quando andiamo sott'acqua il peso dell'acqua ci schiaccia perché il corpo non è progettato per stare sott'acqua è progettato per stare in equilibrio a un chilo d'aria ogni centimetro quadro pressione atmosferica se la pressione interna aumenta stiamo male lei signor Caria ha la pressione alta se la pressione interna diminuisce lei signor Caria è debolo perché ha la pressione bassa cioè si è rotto l'equilibrio certo te bevi due litri di rosso al giorno mani come una bestia schifezze è ovvio che poi ti intasi il corpo provo a buttare la sabbia nel serbatoio della macchina e vediamo se ti cammina quindi è il nostro stile di vita c'è una persona a me tanto cara si ammala di tumore in maniera grave io la prima cosa che gli ho detto devi cambiare stile di vita che c'entra perché ti sei ammalata per il tuo stile di vita ma il dottore non capisce nulla se le università generassero persone sagge il mondo sarebbe un paradiso le università generano conformati col cervello inscatolato che solo mandano a memoria cose scritte da altri ma non imparano nulla e si vendono al primo offerente perché nella testa hanno solo carriera, soldi e successo basta questo c'è il ragazzo universitario quando va all'università tranne ovviamente le eccezioni quindi se le università insegnassero saggezza il mondo rifiorirebbe invece sono quelli che escono dalle università che costruiscono e progettano le atomiche che fanno i cannoni, i carri armati, i missili chi li faccio io? o li fate voi? li fanno gli universitari chi ci lavora alla Leonardo a ex fin meccanica all'automelara alla Beretta chi ci lavora? il popolo quindi queste leggi sono facilmente desumibili dall'esperienza normale è un fatto assolutamente vero e inconfutabile che tutti gli esseri umani prescindendo dalla razza, la religione, il credo quindi nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo cioè il credo religioso non serve a una beata puntini puntini serve solo a ingrassare chi si spaccia per essere ciò che non è sua santità va bene me lo fai vedere? perché Gesù risuscitava i morti camminava sulle acque qualcosa la devi fa' non ti chiedo tanto guarda c'ho qui mezzo litro d'acqua mi piace il barolo me lo cambi? figliolo lei si deve confessare cioè devo dire che faccio quelle cose? eh sì figliolo ah ho capito cioè io devo andare da uno che mi toglie i peccati certo figliolo così i tuoi peccati ti saranno rimessi ah come faceva Gesù sì figliolo lui perdonava i peccati alt ma io ricordo che quando Gesù diceva vai i tuoi peccati ti sono stati perdonati i ciechi vedevano i paralitici camminavano gli storpi si raddrizzavano io sono andato tante volte a confessarmi ma le malattie che avevo mi sono rimaste fosse che fosse che la presa per il sedere fosse che fosse che la confessione è il facebook del passato sapere tutto di tutti per dominarli nel Vangelo non c'è una volta che Cristo confessi qualcuno lui non dava la soluzione lui dava la soluzione quindi quando noi andiamo a confessarci non ci viene rimesso niente ci rimettiamo noi lo dice il Vangelo vai figliolo i tuoi peccati ti sono stati perdonati ma non peccare più o ti accadrà di peggio legge di causa ed effetto chi di spada ferisce e di spada perirà quindi un grande teatrino una grande e roboante architettura materiale a fronte di uno spaventoso vuoto siderale di conoscenza su qualsiasi cosa si sono inventati una cosa grandiosa mistero della fede come mistero della fede ma cazzo sei tu il suo ministro perché mi nascondi le cose se tu sei il suo ministro e fai le sue veci tu me lo devi rivelare il mistero se manco tu lo conosci e c'è qualcuno qui che sta affrodando cose logiche da figlio di contadini mica da scienziato eppure la consuetudine ci ha fatto diventare stupidi quindi se tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo il decorso della vita umana non è regolato da credo religiosi è regolato da leggi naturali che sono uguali per tutti anche per i vegetali e anche per gli animali anche i piselli nascono, crescono, invecchiano e muoiono ma guarda un po', i fagioli tutto nasce e cresce, invecchia e muore tutto ciò che è vivente è una legge di natura legge non la puoi violare qui dentro nemmeno io non ci piace invecchiare la morte ci fa paura perché siamo ignoranti ma se noi avessimo potere la violeremo la legge invece la legge ha potere su di noi e ci obbliga a invecchiare e ci obbliga a morire anche che non vogliamo quelle sono leggi non le chiacchiere di quattro parrucconi seduti a far finta che la legge è uguale per tutti è uguale per tutti loro ma tra noi e loro non è uguale quindi se queste leggi governano la nascita e la morte dell'essere umano è ovvio che regoleranno anche ciò che accade quando noi lasciamo il corpo infatti nel mondo dell'aldilà avvengono delle cose molto interessanti e anche molto brutte se siamo stati dei delinquenti durante la vita fisica le dobbiamo sapere queste cose o no? ci andiamo tutti forse è una cosa macchia di leopardo ogni tanto muore qualcuno ma tutto il resto va avanti dice vabbè freghiamocene spero che non tocchi a me ma me ne frego ma moriamo tutti ci vogliamo informare in modo serio finalmente una volta su che cavolo succede quando i parenti fintamente piangono e poi si scannano per dividersi il conto che noi abbiamo lasciato tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo c'è una cosa diversa però il pisello o il cincillà non ha il libero arbitrio noi sì quindi noi all'interno di quelle leggi siamo una particolarità usiamo un termine che piace molto agli scienziati siamo una singolarità cioè solo l'essere umano può decidere oggi non mangio carciofi oggi mangio una bella porchetta lo scoiatolo non può decidere quello quello tutti i santi giorni si alza e va a mangiare la ghianda noi abbiamo il libero arbitrio quindi significa che queste leggi con noi si comportano in una forma differente la legge universale di causa ed effetto questa cosa amici cari è una cosa potentissima c'è un segreto nella comprensione della legge che farebbe di noi degli esseri potentissimi perché questa legge ti dice la causa della tua condizione sei solo tu non è vero che colpa vabbè Silvio non ha colpe lui è immacolato che Dio lo abbia in gloria lui è immacolato ha colato tanto eh ma quanto ha colato Silvio non ne avete un'idea la legge di causa ed effetto significa io, tu, lei, Sergio, tutti voi potete una volta che avete capito come funziona decidere che tipo di vita volete cioè questa legge dice voi avete un potere assoluto sulla vostra vita non è poco per un popolo che spera sempre di beccare uno stronzo che sia un po' meno corrotto degli altri al Parlamento non ho più bisogno di un Parlamento ho bisogno di studiare sperimentare la legge di causa ed effetto e decidere che finalmente ho diritto e me lo voglio dare una vita meravigliosa ho diritto, esisto, penso, amo, creo ho diritto a una vita meravigliosa come dico io non come dice qualcun altro ho diritto a fare il lavoro che piace a me ho diritto a che ogni giorno sia domenica che bella, una settimana tutte domeniche io mi alzo la mattina anche che mi faccio un culo così in ufficio che bello vado in ufficio, creo studio, faccio la cosa che amo di più se avessi 50 milioni di euro non cambierei vita cioè rimarrei a fare quello che faccio perché l'unica cosa che posso fare nel contesto storico e sociale che sta vivendo la società di questa terra devo fare questo perché il pianeta sta morendo e voglio fare qualcosa per me stesso e per i miei fratelli umani che amo mi piace stare con bella gente condividere belle amicizie stare con persone interessanti ma quanto è bello avere amici vado in America e ho amici vado in Sud America e ho amici vado in Russia e ho amici vado in Germania e ho amici ma che bello, sui miei amici non tramonta mai il sole abbiamo diritto a una vita così vale la pena lottare per questo alla fine che cosa cacchio devi fare? studiare, applicare, niente di più cardine principale della scienza dello spirito spiegata dagli extraterrestri è la legge universale di causa ed effetto da cui deriva la nostra condizione esistenziale nei mondi materiali compreso il discorso economico e nei mondi spirituali quando lasciamo il corpo ad ogni nostra azione corrisponde una reazione cioè un effetto quindi ogni nostra azione determina a causa di questa legge una realtà che abbiamo determinato noi con la nostra scelta scelta sbagliata effetto sofferenza scelta sbagliata effetto malattia scelta sbagliata effetto povertà scelta sbagliata effetto infelicità scelta sbagliata effetto tristezza scelta sbagliata effetto il tuo matrimonio salta in aria scelta sbagliata effetto cioè dei figli che sono degli stronzi li hai generati tu ti sei fatto un culo così per farli studiare e poi ti ficcano in un ospizio male che vada ti chiamano due volte all'anno mio padre diceva ma io come t'ho fatto ti disfo allora voi mi direte voi mi direte ma il figlio arriva certo arriva è vero anche che il figlio sceglie il genitore per questo il comandamento dice onora il padre e la madre l'hai scelto tu se il rapporto è conflittuale perché devi superare quella prova perché hai un debito da pagare con coloro che ti sei scelto come genitore lo devi onorare quella scelta ma il genitore ha un potere enorme perché se il genitore è un cretino che passa le domeniche a guardare 22 idioti che tirano calci a una palla pagati a milioni di euro non verrà un angelo verrà un altro coglione come te mettete i bip ragazzi allora quando io dico le parolacce e vi svelo un segreto è perché sono stanco e quindi il mio livello etico si abbassa e faccio disastri perché dopo i ragazzi che devono fare le edizioni devono cercare e metterci il bip perché poi non è bello ma funziona così pensate che bellezza noi possiamo scegliere che tipo di figlio viene un figlio che ci amerà che ci consolerà che ci darà felicità che quando sarà adulto diventerà il nostro insegnante perché sarà evoluto sarà geniale sarà amorevole quindi noi abbiamo un grande potere di elevare il nostro livello di qualità della vita ma se rimaniamo ignoranti noi non ce la faremo abbiamo bisogno di sapere questo concetto della legge di causa-effetto l'Oriente buddhisti, induisti eccetera lo chiamano karma che vuol dire azione 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 reazione perciò ogni nostra scelta comporta una grande responsabilità in virtù di questa legge quindi noi possiamo riuscire alla legge umana a sfuggire al giudice alla finanza al carabiniere al poliziotto all'investigatore ma questa legge non scappi perché è scritta in te giorno per giorno e la memorizza la natura quindi la certezza della legge universale è assoluta la giustizia esiste in tempi che non sono quelli della nostra piccola durata di vita causa-effetto una legge inviolabile se si seminano cardi si raccolgono cardi se si seminano gigli si raccolgono gigli se una causa è ingiusta ingiusti saranno gli effetti la saggezza sarebbe nel valutare gli effetti prima ancora che la causa si determinasse le esperienze sperimentate attraverso l'arco evolutivo della specie hanno concesso la conoscenza sullo sviluppo degli effetti scaturenti da determinate cause esempio ha la guerra mai stabilizzato la pace? e perché continuiamo a fare la guerra? adesso noi per un governo di corrotti e di delinquenti siamo entrati in belligeranza con una potenza nucleare il popolo cosa sta facendo? niente, siamo complici di genocidio e la pagheremo per questa legge significa che l'Italia verrà aggredita e sarà tirata dentro un caos che sterminerà un sacco di italiani perché se noi non facciamo nulla siamo complici se siamo scesi in strada a protestare per quel cacchio di certificato che alla fine uno si organizzava comunque vabbè rinuncio al bar, al ristorante ma che me frega mi faccio due passi nel parco porcocane per la guerra non riusciamo a fare nulla quindi gli effetti di questa non scelta li pagheremo cari molto cari ma gli uomini gli uomini malgrado l'acquisizione dei valori negativi continuano a risperimentare le cause che determinano effetti mortali interrompendo così una rapida ascesa evolutiva dell'umana specie e di tutti gli altri componenti che collaborano alla sanità del corpo e della mente alla pacifica convivenza della materia con lo spirito cioè la nostra condizione di dementi collusi con un sistema criminale sta distruggendo anche la natura il mondo animale e il mondo vegetale cioè noi ci stiamo suicidando uccidendo anche il pianeta il tempo attuale porta in grembo l'ostinata perseveranza verso le cause nefaste con le risultanze ben conosciute dalla cronaca di tutti i giorni occorre mutare le cause se si vuole uscire dal tunnel dei molteplici malanni che affliggono il genere umano con le sole parole le chiacchiere emanare luce ah io emano luce e Putin non farà la guerra ma cioè hai presente che cos'è una guerra gerarchie militari generali strutture industria bellica e tu che sei una comare che si fa il te alle 5 del pomeriggio pensi che emanando luce non si sa bene come fammela vedere fermi questa macchina infernale ma che ti fa la testa ma vatti a curare bisogna avere pensieri positivi bello devono diventare azioni positive se no non servono a niente sono duemila anni che preghiamo non è cambiato nulla è solo peggiorato tutto possiamo dire che non serve pregare basta che è una gran presa per il sedere è come un figlio che dice al genitore papà non me lo faccio più lui spinello ti giuro guarda ti prego si buono con me e poi se lo rifà ma il piglio per il sedere noi così facciamo con Dio preghiamo ave Maria grazie prena ora però non ho bisogno ma ci mangiamo un pezzetto delle chiappe di Gesù del cuore di Gesù e poi non cambia niente non funziona non funziona non funziona se si semina odio si raccoglierà odio se si semina ingiustizia si raccoglierà ingiustizia se si semina violenza si raccoglierà violenza e questa è la legge che è impossibile mutare causa ed effetto sul piano della fede dobbiamo passare al piano della scienza spirituale e se questo accade deve cambiare il nostro rapporto con Dio con la spiritualità con la vita stessa in tutti gli ambiti della vita dell'essere umano e della società compresa la natura che dipende dalle nostre scelte la sopravvivenza della natura dipende da noi i leoni si stanno estinguendo i leoni si stanno estinguendo chi determina questa situazione? noi lo sapevate che i leoni si stanno estinguendo? i leoni si stanno estinguendo è una cosa che mi ha terrorizzato io che ho amato il film Re Leone quando ho letto questa notizia mi sono venuti come un mondo senza leoni non è più un pianeta vivibile ci deve stare il leone la tigre fino a che sparisce l'oppossum vabbè posso anche accettarlo il lemure ma non il leone scherzo ovviamente quindi questo questo mutamento dell'essere umano deve passare da una fede che è solo una gran presa per il sedere perché non è corroborata dalle azioni deve passare su altri tre valori la logica che deriva dalla conoscenza della scienza spirituale il discernimento cioè la capacità di corretta analisi e deduzione è la fede che non è più un sentimento acritico ma diventa la fiducia consapevole di un fatto che tu raccoglierai perché usando la logica e la matematica della legge ciò che determini vorrai accadrà perché questo è nel nostro potere la logica deriva dalla conoscenza della scienza dello spirito il discernimento è la saggezza che scaturisce dalla suddetta conoscenza che ci permette di fare le giuste scelte per ottenere gli effetti che noi vogliamo noi ci accoppiamo con un compagno e con una compagna sperando di vivere la gioia eterna della felicità di coppia pensavamo fosse amore perché nel mondo della mezza età è sparita nella stragrande maggioranza quella passione, quella bellezza, quel desiderio di stare insieme, quella magia il mondo dei sentimenti è un'azienda fallimentare perché? perché era sbagliata la causa che ha determinato la scelta era sbagliata la causa l'effetto sarà il fallimento la sofferenza non accade per caso il caso non esiste scordatevi che esiste il caso 2 più 2 non fa 4 per caso fa 4 perché è matematica stai male? la coppia scoppia? hai sbagliato la scelta c'era un errore nella valutazione perché sei ignorante fare il genitore è un atto di consapevolezza che richiede competenze multidisciplinari non si fa il genitore perché metti un pene in una vagina e tiri fuori un corpo quello lo fanno le bestie nel mondo umano il genitore è l'educatore è l'emancipatore del figlio dei figli ma se non sei emancipato tu se non è emancipata lei mi spieghi come pretendi di riuscire a dirigere l'azienda familiare in modo positivo? impossibile dobbiamo incominciare a ragionare su queste cose perché soffriamo tutti abbiamo sofferto di questo anche io a un certo punto mi sono fermato e ho detto basta sono sta ma ci sarà un motivo perché tutto mi salta in aria? alla fine l'ho scoperto gli extraterrestri hanno detto finalmente figliolo ti fai la domanda giusta mi date una mano? certo siamo qui per quello quindi è una meravigliosa notizia la natura contro l'uomo esempio di causa effetto macroscopico di livello globale let's trust ministro inglese siamo pronti a usare le armi nucleari è un dovere del premier scusate dov'è che è scritto che il primo ministro di un paese deve usare le armi atomiche e distruggere l'umanità? sta scritto in qualche codice io non l'avevo mai saputa sta roba che un coglione è una cogliona che mette lì ha il diritto poi di sterminare il genere umano e mica funziona così tu sei stata messa lì se ti ci metteranno per il bene del popolo per preservare la salute del popolo guardatela questa folle ve la faccio vedere e questa probabilmente diventerà primo ministro sto pregando 50 rosari al giorno spero che non le leggano vi usherò into a room very privately at number 10 vi leggero in front of you what are called the letters of last resort your orders to our trident boat captain on whether you Prime Minister Liz Truss is giving the order to unleash our nuclear weapons it would mean global annihilation I won't ask you would you press the button you will say yes but faced with that task I would feel physically sick how does that thought make you feel? I think it's an important duty of the Prime Minister I'm ready to do that I'm ready to do it I think it's an important duty of the Prime Minister I'm ready to do that Cioè questa distrugge l'Europa? Esatto il popolo siamo a questa situazione amici i TG non ve le dicono queste robe stiamo attenti questi sommatti se io lo farò come lo farai? nel dovere di Primo Ministro ma pare la cosa lì di Heidi l'istitutrice ma l'avete vista? è un robottino ma siamo matti ma questi lo possono fare se il popolo non protesta che fa il popolo? ma questi sono problemi anche per noi italiani Putin ha il Sarmat due nome nato Satan missile intercontinentale ipersonico un solo missile uno e attestata multipla distrugge un territorio grande quanto la Francia uno sapete dove sono puntati Sarmat? sono puntati su Gedi su Aviano lì dove c'è il Muos in Toscana che c'è Camp Derby ma siamo matti ma sta succedendo non è una favola non sono follie che si è inventato Caria nei siti complottisti l'ha detta questa qui ministro inglese sì io userò le armi atomiche ma questa è matta ma quello che c'era prima Johnson ha detto lo stesso Draghi vuole fare la guerra ci ha già portato in guerra dal libro delle profezie di Papa Giovanni si alzano le grida e le barriere della contesa già dalle acque esce la bestia la bestia che esce dalle acque è l'America, gli Stati Uniti d'America e la carestia ferma gli eserciti gli uomini si contano morire e dopo la carestia la pestilenza si legge e poi il Dio ha scatenato la guerra della natura per impedire la guerra degli uomini questa cosa qui l'ha scritta Angelo Roncalli nel 1935 era delegato apostolico a Istanbul in Turchia Roncalli era un massone rosicruciano in una cerimonia iniziatica va in uno stato alterato di coscienza è profetta sul futuro i documenti vengono nascosti negli archivi vaticani ma il regista e scrittore Pier Carpi con le sue intratture massoniche riesce a metterci le mani e pubblica tutto dentro questo libro ci sono anche le profezie sulla visita extraterrestre notizia del National Oceanographic and Atmospheric Administration nel servizio meteorologico americano avviso il centro meteo americano annuncia per la prima volta l'arrivo di un uragano di categoria 1 contro l'Europa avete presente Catrina tutta quella roba lì che pare che quando vedi le cittadine americane c'è passato un frullatore sopra sta arrivando in Europa ve le immaginate l'architettura italiana con uragani di categoria 1? tutto ciò che è stato terremoto farà ridere era già nell'aria da giorni ma ora c'è il comunicato ufficiale il centro meteo americano NOAA tramite il modello di calcolo matematico globale GFS annuncia per il prossimo 13 settembre l'arrivo di un uragano categoria 1 contro le coste atlantiche europee con ripercussioni poi anche verso l'Italia seguiranno aggiornamenti sentite, sentite messaggio extraterrestre del 3 marzo di quest'anno ammonimento severo ai potenti del mondo e ai suoi abitanti abbiamo deliberato l'ordine esecutivo di utilizzare la nostra tecnologia a miliardi di anni del vostro tempo più avanti della vostra per comunicare alle forze della natura che per noi sono gli zigos i quattro cavalieri dell'Apocalisse l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco che abbiamo la possibilità di controllare di scatenare terremoti, maremoti eruzioni di vulcani uragani, scusate quant'altro possa distrarre le follimenti degli scienziati e dei potenti del mondo avete visto la signora Truss dal nefasto orgasmo che possiede le loro anime i loro spiriti porre in essere una guerra nucleare è l'unica possibilità che possa allontanarvi dal vostro folle progetto di autodistruzione sarete costretti a indirizzare tutti i vostri pensieri la vostra tecnologia militare e civile nel soccorrervi dai micidiali colpi che molto presto la natura provocherà al genere umano non è esclusa un'ondata ancora più forte di un virus più potente di quello che voi avete definito Covid-19 a noi dispiace ma ci avete costretti a porre in essere il progetto sopra citato questo che secondo voi potrebbe essere un atto di interferenza o di soprafazione è in realtà un grande aiuto scusate atto d'amore per tentare di salvare l'umanità noi possiamo solo proteggere i nostri fratelli di missione sulla terra e le confraternite che abbiamo scelto nel mondo candidate da Cristo per essere elette e quindi proiettarsi verso un mondo migliore e cioè il regno di Dio sulla terra non possiamo proteggere tutta l'umanità possiamo solo fare dei tentativi come quello che vi abbiamo poc'anzi accennato non ci è dato sapere se la vostra risposta sarà positiva ma certamente la situazione che sarete costretti ad affrontare vi allontanerà almeno temporaneamente dalla distruzione dell'umanità tutta l'umanità sarete impegnati a raccogliere dalle macerie voi stessi i vostri fratelli e i vostri cari non sappiamo dirvi quanto durerà questo tempo dipende sempre da voi scegliere, vivere o morire vogliamo ricordarvi ancora che siamo presenti visibili operanti nelle zone di guerra soprattutto nelle regioni dove risiedono missili atomici e basi nucleari Ucraina, Russia, eccetera sono ad Oniesis che in questo vostro triste tempo viva e opera sulla terra e in cielo con la Confederazione Interstellare questo discorso io ho scritto un lungo articolo sui cerchi nel grano stanno facendo questo stesso discorso e io ho fatto l'articolo e quel messaggio è uscito prima che arrivasse la notizia del NOAA cioè siamo non alla frutta stiamo pulendo il tavolo è finita la pacchia la grande abbuffata perché se scoppia una guerra atomica finisce il mondo le scorie radioattive colpirebbero i pianeti vicini che sono abitati Marte, Venere, le lune di Saturno e quelli non ce lo faranno fare piuttosto ci fanno a pezzi a tutti e portano via quelli che hanno alzato il sedere dalla sedia e si sono dati da fare è una realtà non sono chiacchiere io iniziai 33 anni fa e le prove che scoprì all'epoca mi assicurarono che tutto ciò che si diceva su questo era vero oggi è cronaca quotidiana non è più una profezia o un'anticipazione extraterrestre esce sui giornali sta accadendo quindi disperatamente io cerco comunque di continuare a sensibilizzare coscienze e a mettere nella testa degli esseri umani disperatamente un po' di sale in zucca la morte è solo un cambiamento di stato la vita è eterna e lo spirito si evolve nel ciclo delle reincarnazioni messaggio extraterrestre la vostra vita fa parte dell'eternità con la morte il vostro io individuale non finisce perciò alla vostra osservazione al vostro giudizio sfugge quale punizione tocchi a coloro che hanno trasgredito le leggi di Dio cioè le leggi universali di natura poiché colui che in una vita ha ucciso un fratello o una sorella muore ancora molte volte anche se questi trapassi non possono da voi essere registrati ma resti impresso nella coscienza di tutti che in verità nell'universo siamo tutti fratelli e sorelle e ce la dobbiamo far finita di belligerare tra noi a partire dalla famiglia a finire con l'intero genere umano se no la giustizia di queste volutissime civiltà essendo noi criminali assassini o complici ci falcerà perché la giustizia di Dio è certa e sicura a lui non lo freghi l'entità spirituale subito dopo la morte dell'abitacolo fisico abitacolo, casa, corpo viene attratta verso luoghi o mete dove ci sono esistenze emozionali cioè spirito e anima opposte a quelle assimilate durante l'esperienza esistenziale bio, fisica, psichica cioè l'incarnazione questi luoghi o mete propongono all'entità quindi al caro estinto le condizioni ideali per poter vagliare il proprio grado evolutivo ed esercitare un'attività autocritica di purgamento al fine di conoscere gli errori e volerli modificare per una migliore conoscenza evolutiva e riprogrammare con l'aiuto di maestri che lavorano lì una nuova incarnazione per cercare di mettere equilibrio laddove noi nell'incarnazione abbiamo generato squilibrio e sofferenza l'attrazione delle entità spirituali verso i mondi paralleli cioè i mondi dell'aldilà è in relazione all'evoluzione che essa realizzato le leggi sono ferree ed invalicabili e questo fino all'esaurimento degli effetti negativi che l'entità spirituale ha accumulato durante la sperimentazione sul piano fisico questo per tutte quelle entità spirituali che hanno gravi difetti da modificare è molto importante sapere che l'uomo deve ritornare sulla terra perché così ognuno di voi ha la possibilità di rimediare ai propri errori o di raccogliere i frutti delle sue buone azioni l'universo materiale serve soltanto a rendere perfetta l'anima umana la terra è una sfera purificatrice la vita terrestre non è una punizione ma una scuola essa diviene una punizione solo per colpa dell'uomo Dio non lo vuole purtroppo gli uomini negativi sono convinti che dopo la morte non esiste nulla non esista nulla finché quindi non si convinceranno del contrario ricadranno nella ruota delle reincarnazioni se non esistesse la reincarnazione non ci sarebbe bisogno del mondo materiale solo con la reincarnazione l'universo fisico ha senso la reincarnazione è una legge universale indispensabile all'evoluzione spirituale dell'uomo la legge perfetta per eccellenza causa ed effetto ciò che semini raccogli la vera manifestazione dell'infinita misericordia dell'altissimo padre creatore del cielo e della terra e nello stesso tempo l'espressione suprema della sua santa giustizia il potere tirannico e diabolico compreso quello religioso aggiungo ha sempre cercato di nascondere questa grande verità per paura e ignoranza per schiavizzare e sottomettere le anime ma la verità grazie ai maestri d'Oriente e lo stesso maestro e dei maestri Gesù Cristo ha trionfato sulla mistificazione chiudo il cuore del messaggio extraterrestre amici cari è questo dal cielo alla terra messaggio del 23 luglio di quest'anno una comunicazione profonda e carica d'amore vi abbiamo spiegato anche e desideriamo confermarlo per l'ennesima volta che noi esseri di luce entriamo in contatto solo ed esclusivamente con operatori sulla terra che giorno per giorno donano il loro tempo e la loro vita nella lotta contro il sistema criminale del vostro mondo cioè anticristo difendendo la vita di tutti gli esseri viventi della terra a noi non interessano coloro che egoisticamente cercano nel loro io interiore amore e armonia senza lotta evangelica dell'attivismo sociale contro le guerre e i mali del mondo noi scegliamo uomini e donne che hanno offerto la loro vita e i loro giorni agli ultimi ai senza voce non abbiamo al momento altro tipo di contatto con esseri umani che hanno scelto un percorso di vita diverso dai sopracitati loro preleveranno solo questo tipo di gente gli altri li lasceranno agli effetti delle loro cause negative perciò siccome il pianeta è in crisi e stiamo anche rischiando una guerra nucleare globale è necessario per il nostro futuro entrare nell'ottica dell'azione derivante dalla legge di cause ed effetto e dobbiamo capire che siamo responsabili di ciò che accade intorno a noi perché se noi italiani protestiamo quelli non le mandano più le armi ma se noi non facciamo nulla questa guerra ci colpirà tutti non possiamo occuparci solo dei nostri interessi personali nell'aspetto privato intimo familiare e amicale ma dobbiamo impegnarci a livello sociale partecipando attivamente a una causa a favore della vita e del pianeta che è la nostra casa comune dobbiamo resistere opporci al male dilagante e dare il nostro personale contributo concreto al miglioramento dobbiamo essere quel cambiamento che vorremmo vedere negli altri dobbiamo comprendere che la vita è regolata da queste supreme leggi universali che l'etica è una base imprescindibile per la stabilità personale, sociale e planetaria questo comporta oggi la necessità di agire in modo concreto per opporci al processo autodistruttivo in atto solo così potremo entrare in contatto con le società delle stelle e convivere con loro chiudo perché il Vangelo è basato e imperniato su karma e reincarnazione ci hanno preso per il sedere da quasi duemila anni il Vangelo è imperniato su karma e reincarnazione non c'è la parola ma Gesù gli dice al maestro Nicodemo che era uno del sinedrio Nicodemo te l'ho detto dovete nascere di nuovo poi il prete ti dice che rinasci col battesimo no, no il problema è che noi pratichiamo una religione per sentito dire perché quando Nicodemo va da Gesù gli dice queste parole chiare come può signore tu che sei un ministro mandato da Dio perché solo un ministro mandato da Dio puoi fare i miracoli che tu fai e questa è una frase molto importante che indica che il sinedrio lo sapeva che Gesù era il Messia ma l'hanno ucciso perché il Messia significava che gli sfilava la poltrona da sotto il sedere l'hanno ucciso per una questione di potere hanno ucciso Dio per difendere i loro interessi personali lo testimonia il maestro Nicodemo e poi negli atti degli apostoli Pietro lo dice al popolo voi lo sapevate che quello era il Messia ma avete gridato crocifiggi e gli dice Signore come può un uomo diventato vecchio ritornare nel ventre di sua madre sta parlando di utero non sta parlando di battesimi sta parlando di utero di rinascita fisica e Gesù glielo dice ma come? ma tu sei maestro di Israele e mi vieni a fare queste domande? e certo perché Nicodemo dice cacchio c'ho Dio in terra e gli chiedo se questa storia è vera e dice certo Nicodemo dovete nascere di nuovo ciò che viene dalla carne è carne ciò che viene dallo spirito è spirito se non rinascete in acqua e spirito non potete conoscere il regno di Dio che cos'è l'acqua? il corpo il corpo umano è un'acqua più pura dell'acqua di mare in molecole e liquido il corpo umano è acqua pura al 99% quindi Cristo che è il più grande scienziato mai apparso sulla terra ti dice devi rinascere in acqua nel corpo e in spirito cioè ritornare in un corpo e nel Vangelo non c'è scritto da nessuna parte che ti salvi perché tu aderisci a una istituzione attraverso i riti signore quando mai ti vedemmo affamato e ti abbiamo dato da mangiare assetato e ti abbiamo dato da bere quando ti vedemmo pellegrino e ti abbiamo accolto e ignudo e ti abbiamo rivestito quando ti vedemmo infermo e carcerato e siamo venuti a visitarti causa ed effetto solidarietà collaborazione non competizione allora Gesù disse ai suoi discepoli se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso cioè le proprie brame personali prenda la sua croce cioè il karma e mi segua perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà cioè chi aderisce al suo insegnamento quale vantaggio infatti questo è un ammonimento ai potenti e alle brame di carrierismo sociale o di ricchezza quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima perché dice questo Gesù dovete morire non vi portate dietro niente quindi re imperatori tutti sotto la tomba sono finiti c'ho qualche dubbio su Silvio ma vediamo cosa l'uomo potrà dare grazie amici cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni non secondo i credo religiosi Apocalisse 22 ecco io verrò presto e porterò con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere io sono l'alfa e l'omega il primo e l'ultimo il principio e la fine perché in Gesù di Nazareth si era suavemente posato per amore ai suoi figli il sole perché Cristo è il logos solare quindi il sole che l'inizio e la fine di questo sistema ha camminato con questa umanità dignavi di ciechi e di stolti che si stanno suicidando ma siccome noi siamo esseri intelligenti e dotati di libero arbitrio se decidiamo di cambiare la nostra vita lo possiamo fare e gli extraterrestri ci hanno donato vi ho letto solo dei piccoli stralci una grandiosa collezione di insegnamenti straordinari che se li applicate nelle vostre vite diventerete ciò che non pensereste mai di poter essere vi ringrazio e adesso le domande grazie amici tanti anni fa vi racconto questo aneddoto tanti anni fa avendo ormai capito bene com'era tutta l'architettura delle leggi universali e di quanto sta accadendo nel mondo di cosa sono venuti a fare questi esseri meravigliosi questi maghi della gioia dell'amore sono io vi auguro tutti voi di poter essere toccati da loro sono fanno impressione per quanto sono non belli esteticamente che lo sono ma sono magici sono amore fatto carne e sangue è difficile spiegarlo perché siamo talmente abrutiti dalle nostre miserie dalle nostre piccinerie dalle nostre piccolezze che immaginare essere che sono amore puro che cammina disinteressato è qualcosa che per me è stato scioccante all'inizio quindi dicevo anni fa ho compreso come era tutto il macinino ho detto porca miseria e qui io devo parlare del Signore devo parlare di Gesù ero amico di Giorgio con l'estima a te dicevo ma è ovvio e logico che ne parli uno stigmatizzato ma io sono figlio di un contadini non sono un prete non sono un teologo sono un povero documentarista ma la gente mi tirerà i pomodori se io parlo di Gesù e quindi sta cosa mi tormentava perché dicevo ma poi nel mondo dell'ufologia oddio santo parlare di Gesù no sarà un disastro però siccome quando io mi sento così è una sfida e allora attacco aggredisco ha detto non voglio vivere con questa paura niente rompo gli schemi e decido ho deciso di preparare una presentazione perché mi avevano invitato a un convegno di pura ufologia viti e bulloni ho detto niente mi butto nel luogo peggiore poi non ero conosciuto come oggi erano i primi anni successivamente all'invito da parte degli extraterrestri di lasciare il mondo delle televisioni quindi ero conosciuto in quel mondo ma poco o quasi conosciuto sconosciuto nel mondo della divulgazione e c'era questo ricercatore che era un amico e mi invita dice scegli un tema niente ho detto vado lì e parlo del signore non me ne frega nulla o la va o la spacca faccio la mia relazione pomodori non ne vola manco uno uova marce nemmeno finisce il convegno viene l'organizzatore e dice ti devo parlare andiamo dietro c'è il bio però nessuno mi ha fischiato ha detto ma quindi andiamo dietro il sipario e questo signore che si chiama Silvano mi fa ha detto mi hai commosso mi sono stupito perché hai parlato di un tema scottante religioso in un ambito che non è molto adatto ma l'hai fatto con tale equilibrio e pertinenza che mi devo complimentare con te sapete cosa ho scoperto che tanta gente ha Gesù nel cuore ma si vergogna perché Gesù è stato reso dalla chiesa un prodotto scaduto ammuffito qualcosa di cui vergognarsi ma come questo essere potentissimo che si è fatto ammazzare come un cane per amore nostro che poteva fare così e distruggeva tutti e lui mansueto prego sputate, picchiate, crocifiggete però torno eh poi gli faccio un culo così ecco ho capito la psicologia umana perché che ne parli lo stigmatizzato è ovvio che ne parli il prete è ovvio il popolo non si identifica ma un poro Cristo come me ecco questo un poro Cristo un poro Cristo come me comunque un ricercatore un uomo di televisione che sdogana Gesù il popolo è felice ma anch'io amo il Signore ma il tuo cavolo ah ho capito avevamo Gesù nel cuore ma ci vergognavamo di parlare di Lui quindi per me è una gioia infinita perché questo giovane che è stato massacrato questo giovane Dio che è stato massacrato a 33 anni è qui sulla terra e viene per giudicare è qui fisicamente quindi quest'amore deve diventare seguire Gesù non è di credo in Lui cioè le chiacchiere seguire Gesù vuol dire mettere in pratica che sono insegnamenti perdona 70 volte 7 porgi l'altra guancia cioè Gesù ci chiede di smettere di belligerare tra noi smettetela di essere belligeranti perché questa belligeranza vi porta all'estinzione atomica fatevela finita perché ci sono le leggi universali causa effetto secondo le sue opere la salvezza o la condanna non dipende da Lui Lui solo prende atto delle nostre decisioni quindi noi abbiamo ceduto il nostro potere divino a una manica di criminali corrotti bugiardi falsi ipocriti menzogneri sono una feccia purtroppo lo è anche il popolo ma il popolo se vuole ha il potere di cambiare perché c'è un potere che viene dall'universo che è il nostro alleato per adesso non si fa vedere ci sono quelle foto quei filmati ma sono qui addirittura loro dialogano con gli spiriti di natura e possono smuovere gli oceani i continenti gli uragani e pur di impedire l'esplosione atomica e l'estinzione dell'intero genere umano ce la faranno penare e ci impediranno di autodistruggersi perché salveranno il pianeta e tutte quelle persone che hanno offerto la loro vita per il bene comune e non solo per proteggere le proprie chiappe alzate la mano per le domande c'è qualcuno che passa il microfono? allora un signore lì bello parlare di Gesù buonasera a tutti ciao buonasera a Pier e io sono Walter ciao Walter voglio farti i complimenti sei una grande persona solo i grandi fanno quello che fai tu ti do del tu grazie grazie Walter io ti ringrazio io non mi sento così io mi sento un graziato non lo so non lo so perché questi esseri no sono uno di voi sono un figlio del popolo di povera gente con più coraggio di noi molto più coraggio molto più coraggio vedi Walter il coraggio è vero che ci sono esseri umani che ce l'hanno per loro logica evolutiva ma tutti abbiamo vissuto un momento della nostra esistenza in altre vite in cui il coraggio non ce l'avevamo il coraggio è una virtù che si può formare cioè l'essere umano è un quaderno bianco su cui è possibile scrivere tutto perché siamo tutti divini lo stupido e il genio sono solo due posizioni momentane di un percorso evolutivo non sono percorsi stabili è tutto in itinene quindi se io e ti ringrazio perché sei un grande anche tu che dici io non ho coraggio questo è un atto di grande coraggio dire non ho coraggio veri il paradosso perché da questa presa di coscienza può iniziare il primo passo per fare tu un giorno quello che sto facendo io oggi quando io ho pensato di parlare in quel convegno letteralmente mi cacavo sotto ero terrorizzato ma siccome io non riesco a stare in una condizione stabile di terrore devo superarla e quindi aggredisco ho questo tipo di reazione invece di scappare aggredisco meno male ma tutti ci possiamo formare cioè questa scuola iniziatica che ci viene da questi esseri è fondamentale perché ci dà istruzione e informazione per migliorarci nessuno è nato scienziato tutti hanno dovuto studiare Einstein anche lui si è fatto tutte le scuole Leonardo da Vinci è andato a bottega perché all'epoca non c'erano quelle infernali strutture comandate dall'elite che chiamiamo università si andava a bottega Steve Jobs mi che era laureato eppure ha creato la più grande azienda di computer del mondo la Apple quindi vai con la domanda quello che per me è stato ed è ancora il più grande genio della storia Nikola Tesla ma è era un extraterrestre e i progetti che lui ha brevettato venivano da loro già pensava a una energia più pulita a salvare il pianeta questa è la domanda grazie allora Walter io ho visto tantissima tantissima tanta tecnologia extraterrestre nel nostro pianeta anche adesso io ero amico di Rolando Pelizza della macchina di Majorana che è stata rifiutata da tutti i governi la macchina di Majorana l'hanno chiamata la macchina di Dio faceva miracoli hanno trasformato con la macchina della sabbia in grano l'hanno macinato e ci sono fatti le pagnotte Rolando ha messo un video su YouTube dove trasforma un pancale di cubetti di gomma piuma in oro puro al 100% questa macchina poteva rallentare lo spino atomico dei metalli farli scaldare a 800 gradi ficcarli dentro un coso d'acqua generare vapore far andare le turbrine ab eternum cioè quel metallo non si raffreddava più anche che lo ficavi dentro il ghiaccio polare quel metallo poteva disintegrare senza produrre inquinamento qualsiasi tipo di scoria radioattiva di plastica di inquinamento lo hanno chiamato in Olanda per fare l'esperimento e gli hanno chiesto di distruggere un carro armato lo volevano solo per farne un'arma e lui ha speso tutta la sua vita nel tentativo di dare al governo italiano al governo americano al governo olandese al governo de mi nonno sta cavolo di macchina ma tutti volevano solo una cosa un'arma quindi tesla è uno dei tanti emissari della confederazione che hanno cercato di darci una mano ma l'umanità ha sempre rifiutato perché il problema non è la tecnologia il problema è l'essere umano quindi sono tentativi sono test va tutto bene ma se non cambia l'essere umano qualsiasi cosa ci mettono in mano sarà per la morte dobbiamo cambiare noi vedi Walter anche il popolo qualsiasi cosa io gli dico cerca sempre una scappatoia pur di non cambiare noi non vogliamo cambiare noi vogliamo salvarci mantenendo i nostri vizi non è possibile dobbiamo cambiare funziona così prima o poi la capiremo questa storia prego sì buonasera ciao io volevo fare una domanda perché lei ha sempre detto i nostri fratelli non permetterebbero mai l'utilizzo di armi nucleari però nel passato è successo loro non permetteranno mai l'utilizzo di armi nucleari in quantità tali da distruggere l'intero pianeta e l'intera umanità Hiroshima Nagasaki test nucleari non distruggevano l'intera umanità quindi loro hanno permesso e permetteranno anche l'inizio della guerra nucleare ma in meno di dieci minuti invadono la terra hanno fatto i calcoli in base alle armi atomiche che esistono oggi e hanno calcolato che in meno di otto minuti moriranno due miliardi e mezzo di esseri umani l'hanno detto in quel messaggio loro non salvano chi non fa nulla loro porteranno col teletrasporto a bordo delle loro astronavi solo chi ha alzato il culo dalla sedia e ha cambiato la propria vita per se stesso e per gli altri ama il prossimo tuo come te stesso sugli altri la loro legge e Dio stesso e Cristo stesso gli vieta di farlo vedi Gesù quando camminava per la Galilea a quei tempi dove non c'era la sanità non c'erano medici per il popolo era pieno di lebrosi di storpi di ciechi perché quella società di allora era normale anche accoppiarsi con le bestie non era mica una società di santi quindi il karma già a quell'epoca devastava la società e Gesù passava in quelle vie piene di cenciosi di paralitici di ciechi di lebrosi non guariva nessuno a meno che non glielo chiedevano infatti cosa diceva vai la tua fede ti ha salvato ma quelli che non se lo calcolavano lui non gli faceva nulla cioè l'uomo deve andare verso Dio aspetta tanto c'è l'eternità questa cosa la dobbiamo capire il problema è che siamo talmente abituati a vivere in modo ignavo che pretendiamo che gli extraterrestri ci risolvano il problema mentre noi guardiamo Sanremo Champions League facciamo shopping cioè toglieteci tutto tranne i nostri vizi non ce li toglieranno per un motivo solo cara siamo eterni e quindi tempo per ragionarci abbiamo tutto quello che vogliamo prima o poi la capirei tanto Dio ti prende per sfinimento prima o poi a furia di pigliare legnate la capisci perché ti stanchi cioè quando un essere umano una vita due vite tre vite quattro cinque sei e fallisce sempre alla fine la parabola del figlio del prodigo è quella il figlio del prodigo è l'umanità stai a casa del padre è ricco è le feste è se magna bellissimo ah io voglio le eredità e me ne vado e il padre dice prego ecco la tua eredità ciao alla fine quello sperpera tutto si ritrova a mangiare ghiande in mezzo allo sterco dei maiali e dice ma io stavo in un bellissimo palazzo con bellissime donne abiti profumati mostro qui in mezzo alla merda dei maiali ma sarà un po' meglio che torno a casa di mio padre quella è la storia dell'umanità terrestre alla fine ci stancheremo perché gli extraterrestri lasceranno esplodere qualche missile atomico perché deve rimanere marchiato a fuoco atomico nella nostra memoria che non si può vivere da teste di minchia bisogna cambiare e da lì gli spiriti che verranno forgiati da quella terribile esperienza vedrai che lo capiranno che bisogna cambiare Dio è saggio e ha pazienza ti fa sperimentare se no è un padre stupido che di nascosto va a scuola e fa i compiti in classe al figlio che rimane un somaro devi studiare tu e il problema lo devi risolvere tu non tuo padre o i tuoi fratelli superiori è una logica alla fine banale il figlio il figlio va al bar a prostitute si imbriaca papà me lo fai il convito in classe no non te lo faccio verrai bocciato smetti di perdere tempo così come fai domanda dov'è il microfono sì poi magari veniamo anche un po' avanti pronto c'è ok ci siamo visti a Modena ci ha salutato personalmente a Modena mi ricordi il nome Maurizio ciao Maurizio ed è difficile comunque non farlo ancora perché comunque è necessario è spontaneo secondo me condividere gratitudini a chi a chi quindi insomma prenditi i ringraziamenti come è normale che sia grazie grazie è bello è bello donare e ricevere no? è bello donare e ricevere beh certo vengo qui mi pigliate a uova marci a fischi non è un bel vivere è raro è raro mi dovrei ma tutto sto gran ricercatore però va bene grazie a voi hai truccato i video perché non ci sono mai viste queste cose e la mia domanda è questa anche io sento che è molto importante darsi da fare no? però quello che vedo sicuramente tutti si interessano anche dell'aspetto dei percorsi di autodeterminazione no? sì e a me da un certo punto di vista sembra un po' una perdita di tempo cioè nel senso che è importante secondo me riconoscersi un cittadino del mondo e quindi autodeterminazione a voi un mio parere? sì sì esattamente sì e quindi questo è il mio pensiero cioè volevo confrontarmi con te rispetto a questo perché sennò a volte c'è una perdita di tempo incredibile io ho portato a compimento grazie tutto il percorso di autodeterminazione tutto quanto ho tutti i documenti tutti timbrati vidimmati validi per l'Italia per l'estero non li ho mai usati è stato un meraviglioso percorso formativo che mi ha insegnato tante cose soprattutto una cosa importante il sistema è criminale funziona con le bombe i proiettili le armi atomiche i carri armati la giurisprudenza è una patina di vernice su una grande montagna di merda per far credere al popolo bue che esista una giustizia e che un pezzo di carta risolva i problemi non li risolve in certe situazioni secondo me non perché funzionino ma perché il pubblico ufficiale l'amministratore che si trova in mano queste lettere notifica di accettazione condizionata lettera di cortesia so tutto quello di cui possiamo parlare non sto a spiegarlo non serve amici può ottenere un risultato di piccolo cabotaggio con una banca o per una multa solo perché il pubblico ufficiale si spaventa non sa come gestire preferisce mettere nel cassetto la tua multa ma non perché funzioni perché il sistema è criminale lo abbiamo visto in due anni di pandemia poliziotti carabinieri finanzieri hanno violato tutte le leggi possibili e immaginabili sarebbero da mettere la maggior parte in galera quello che hanno fatto alla torteria di Chivasso è puro arbitrio e abuso di potere violazioni costituzionali dei giudici violazioni costituzionali dei ministri dei primi ministri conte tutti in galera dovrebbero andare spero che ci finiranno ma questa gente questa gente compreso il draghetto Mario sono solo utili idioti non contano nulla il vero potere sta dietro di loro e non si fa mai vedere perché quando il nemico è invisibile vince sempre lui è satanico certo che è satanico il seminario la porta dell'inferno ha spiegato molto su questo rito luciferino dove è stato offerto al dio del male il popolo italiano è stato un grande rito sacrificale per richiesta di potere perché l'anticristo ha paura di Putin e ha bisogno di un grandissimo olocausto offerto al suo dio lucifero per chiedere la vittoria ma il dio del male è il sommo ingannatore e il sommo bugiardo e inganna anche suo figlio satana perché lucifero è comandato da dio quindi il sistema è criminale i pezzi di carta mi fanno ridere non funzionano è un'illusione invece la legge di causa-effetto è una grande verità lavoriamo con quella è molto più potente molto più potente comunque mi è servito è il percorso ma mi è servito il percorso non i documenti il percorso mi ha fatto conoscere tantissime belle persone con cui sono ancora amico e mi ha dato delle conoscenze di carattere non solo giuridico amministrativo ma anche di carattere spirituale perché nelle pubbliche amministrazioni si annida il demonio satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose quindi con questo studio che gli extraterrestri mi hanno permesso io ho potuto capire alcuni segreti di come si muove il diavolo molto interessante prego buonasera a tutti ciao mi chiamo Valentina una curiosità una domanda un po' esistenziale perché questa umanità non riesce a scegliere il bene cioè esiste un difetto di programmazione oppure una questione del fatto che siamo di una dimensione talmente bassa come vibrazioni parla piano se no Dio ti sente che se tu dici difetto di fabbricazione quello si incazza una prova prova di fabbricazione no è stata una scoperta iniziatica nel senso scusami una coda di pensiero perché queste civiltà evolute no te lo spiego ho capito la domanda hanno semplicemente scelto e quindi si sono evolute e quindi è solo una questione di scelta la terra è un ospedale psichiatrico criminale di questo ramo della galassia no è vero la terra è stata scelta dal padre creativo che si chiama Adonai il padre di Cristo ha un nome si chiama Adonai che vuol dire il Signore il padre Adonai ha scelto questo pianeta perché lo spirito della terra che si posò suavemente nel corpo di Maria Santissima che era l'incarnazione della terra perché Gesù era l'incarnazione del sole queste cose di conoscenza cosmiche prima o poi le faremo nostre non erano pagani gli egiziani gli adoravano il Dio Ra loro sapevano cos'è il sole dicono gli extraterrestri nella vostra dimensione materiale il corpo di Dio materiale è una sfera fiammeggiante luminosa nel cielo vi siete mai chiesti perché nei tabernacoli c'è il sole perché il Santissimo dove a volte il prete eleva l'ostia e la benedice è un sole perché San Bernardino mette il trigramma di Cristo Iesus Omni in un sole a dodici raggi perché il sole è il corpo di Dio voi volete vedere Dio guardate in cielo in una bella giornata quello è Dio colui che partorisce le idee e le sostanze che lui genera con la sua forza creante e lo spirito di Gesù era il sole che si incarna per parlare ai suoi figli non diciamo che Dio è onnipresente ma che significa? sono concetti di alta scienza universale niente può esistere se lo spirito divino se il principio evolutivo spirituale non permea ogni atomo esistente di qualsiasi cosa comprese le pietre o la vernice di questi muri Dio lo spirito creativo del Santo Spirito è dappertutto ritorno a noi la terra è stata scelta per l'enorme forza d'amore che ha questa beata madre che noi stupriamo e violentiamo ogni giorno il suo corpo cosmico perché è talmente piena d'amore che solo uno spirito così potente nell'amore poteva sopportare sulla sua superficie gli esseri più cattivi di questa parte della galassia quindi è stato scelto questo pianeta dove vengono esseri da tanti pianeti io ho visto venusiani ho visto jargani ho visto marziani in giro per le strade del mondo in carne umana che hanno fatto qualche casino e anche gente di altre parti dell'universo che sono mandati qui in punizione perché fanno casino nelle loro società compresi i terrestri quindi in questo mondo c'è questo grave problema perché è un carcere e come tu ben sai nei carceri ci sono solo delinquenti forse per sbaglio qualche innocente ma nelle carceri umani nelle carceri divine che sono i pianeti la casa del padre mio è fatta di molte dimore sono i pianeti le dimore hanno scritto stanze sbagliato la traduzione corretta è dimora perché una stanza può essere vuota la dimora è dove vivi quindi le stanze del padre mio scusa la casa del padre mio che è il cosmo è fatta di molte dimore che sono i pianeti abitati alcuni pianeti hanno questa funzione di ospedali criminali dove vanno a purgare gli spiriti che hanno gravi carmi da compensare infatti tranne rarissime eccezioni nessuno degli abitanti della Terra ricorda le sue vite passate che è una forma di morte spirituale per i gravissimi peccati commessi e per la necessità di una compensazione positiva che ci costringe a rinascere e avere rapporti parentali genitoriali o sentimentali proprio con le persone con cui nelle altre vite abbiamo belligerato in modo più violento quindi se io vengo ucciso dal mio collega di lavoro rinasciamo come fratelli perché l'universo vuole la pace non vuole la violenza non vuole la belligeranza allora per misericordia perdiamo il ricordo perché se io mi ricordo che mio fratello mi ha fatto la pelle nella vita passata lo ammazzo io di notte prima che lo rifaccia lui questa è la ragione la scienza spirituale spiega tutto è logica è perfetta e quando tu capisci quando tu capisci quando noi capiamo non ti viene l'istinto dice cavolo ci metto mano e modifico sono stanco di soffrire non siamo stanchi di soffrire non siete stanchi di soffrire io a un certo punto di questa vita ho detto ma basta e iniziavo un rapporto con una ragazza e finiva male vabbè ero anche un po' discolo e mi sono sposato e finita male e ho avuto altre storie e sono finita ma io non ho mai sentito prendiamo una ragazza raggiunge 16 anni adesso che ho tutto a posto si c'è tutto adesso adesso vado al corso osservo tutti i maschietti il più stronzo me lo scelgo me lo scelgo perché voglio fare una vita di merda perché quello mi deve mettere un sacco di corna e io devo crepare di sofferenza c'è mai una ragazza che si fa un progetto così e perché finisce così c'è qualcosa che non quadra nella scelta non abbiamo un parametro non avendo un parametro ed essendo stati formati da una società corrotta e violenta soprattutto nei quadri dirigenziali noi siamo formati per rimanere schiavi qualsiasi scelta il popolo faccia è come una macchina con i freni rotti e il volante bloccato va sempre alla prima curva incidente ma avendo il libero arbitrio e l'aiuto in questo tempo di grazia in virtù del preziosissimo sangue versato da Gesù possiamo avere il grandioso aiuto di civiltà potentissime che possono trasformare la vita di un idiota e farlo diventare un genio libero arbitrio aspetta a noi prego domanda dov'è il microfono venite anche qui avanti ragazzi perché 450 persone è molto difficile che riusciamo ciao facciamo un po' ciao come ti chiami Andrea ciao Andrea volevo chiederti se conosci ma sei Andrea Andrea sono Andrea Andrea ciao Andrea come stai? è un pezzo che non andreiamo insieme un paio di annetti sì volevo chiederti se conosci il dossier di Andrea Cionci il libro che poi ha scritto sul codice Ratzinger e dichiarazioni di Tommy Nutella allora c'è in atto grazie Andrea grazie a te allora è in atto una potente campagna di attacco a Papa Francesco e quindi questi personaggi tutti quanti aggrediscono un signore che fa delle cose buone a volte anche delle cappelle perché non è un iniziato cioè è un iniziato per quella roba lì ma io chiedo a tutti voi Andrea ma dov'era Monsignor Viganò quando Papa Voitila usava i soldi della mafia per finanziare Solidarnosc dov'era Monsignor Viganò quando veniva occultato il mistero il terzo segreto di Fatima dov'era il signor Viganò quando nello York transitavano i soldi di tutte le peggio criminalità del pianeta comprese quelle della CIA quindi è in atto una grande campagna dalla piramide perdente che è quella massonico clericale che sta cercando di abbattere la piramide vincente gesuito massonica perché gliel'hanno messa in quel posto perché si erano spartiti uno la cupola di San Pietro l'altro il governo italiano con quel personaggio che ha iniziato come presidente del Consiglio il primo periodo della pandemia non faccio il nome ma contava un po' questo sta accadendo Andrea ovviamente essendo il popolo ignorante reagisce di pancia e quindi la piramide perdente sta cercando di usare la pancia del popolo per abbattere l'altra pancia perché i gesuiti si sono impossessati di tutto hanno in mano il Vaticano il governo italiano il governo americano perché sono tutti gesuiti vengono tutti da scuole gesuite questa è la verità su tutta sta storia qui quindi rispetto per tutta questa gente ma mi dispiace io in quelle trappoline non ci casco più Papa Francesco è scomodo il suo era programmato come papato satanico anticristico ma a questo signore gli è accaduto qualcosa di particolare per questo stanno attaccando lui e Vladimir Putin perché erano tutte e due sodali dell'anticristo e si sono ribellati l'anticristo testuali parole ha detto così Papa Francesco fa un po' di testa sua ma lo ricondurremo all'obbedienza quindi Andrea noi dobbiamo essere saggi e dobbiamo sospettare perché quando parla un potente quello ha un progetto che non ti dice ti sta solo usando quella gente lì non è mai stata tanto brava quindi il codice Ratzinger tutta sta roba qui è una montatura messa in piedi per fotterci come sempre usarci per i loro occulti e satanici progetti prego domanda dove è il microfono eccomi buonasera sono Pasquale pian piano ci avviciniamo qui avanti col microfono ciao Pasquale mi sento ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere Gesù in una maniera fantastica cioè lo sento molto più di prima perché prima era noioso te lo presentavo in una maniera noiosa adesso sì adesso lo sento era un piano quello vedi nel 325 dopo Cristo l'impero romano era in dissoluzione quel demonio delinquente dell'imperatore Costantino rimane stupito della spaventosa forza d'animo di questi cristiani che cantavano e lodavano il Signore mentre le fiere gli sbranavano nelle arene di Roma gli viene un'idea che gliela mette in testa Satana riunisce tutte le fazioni cristiane che già erano in lotta fra loro si piglia quelle più corrotte scarta quelle che rimanevano più aderenti all'insegnamento vero di Cristo abolisce la reincarnazione che è stata insegnata per ben tre secoli la reincarnazione è una legge di natura Gesù era un laico è stato ucciso dai preti non ci ragioniamo mai su queste cose e quindi cosa fa Costantino? sveste l'impero romano delle vesti guerresche e le riveste di vesti sacerdotali ma il Vaticano è la reincarnazione dell'impero di Roma il cattolicesimo non è il cristianesimo il cattolicesimo è una religione politica che è stata svuotata di tutta la conoscenza per schiavizzare il popolo infatti nel momento che i cristiani acquisiscono potere diventano loro gli sterminatori fateci caso gli Stati Uniti sono cristiani nelle varie confessioni evangeliche e tutte diciamo le varie correnti i russi sono cristiani giusto giusto sono le maggiori potenze nucleari quindi questi cristiani qualcosa non l'hanno capita del messaggio di Gesù Cristo quindi il cattolicesimo non è il cristianesimo è una falsa religione dove c'è Cristo comunque perché sai meglio il 5% di qualcosa che il 101% di nulla quindi nella corrotta infernale demoniaca storia del Vaticano il Signore ci manda San Francesco Padre Pio e tutti gli altri santi che ha mandato ma la storia dei papi è una storia di criminali di potenti i papi sono sempre stati delle maggiori famiglie ricche quindi sta storia di questa chiesa è una storia di assassini di corrotti di faccendieri di potere a loro di Gesù non frega niente è la holding più ricca del pianeta il Vaticano quindi fammi la domanda la domanda è in che modo l'arte e il canto in particolare può contribuire all'evoluzione dell'umanità l'arte è l'esaltazione dello spirito se è vera arte quindi la vera arte che sensibilizza l'anima e il cuore degli uomini gliela riscalda li ispira verso le cose più alte dell'etica della bellezza dell'amore della pace è arte divina quindi l'arte ha un grande potere infatti l'arte di oggi fa schifo è un'arte brutta quattro scarabocchi su un foglio valgono cinque milioni di euro ma che è? quindi l'arte è un valore importantissimo deve essere al servizio della denuncia e della giustizia Victor Jara un cantautore sudamericano che cantava canzoni contro la dittatura cilena gli sgherri lo hanno ucciso ma prima gli hanno spezzato tutte le dita delle mani lui suonava con le dita col calci dei fucili e ridacchiavano mentre gli spaccavano le mani prova a suonare adesso prova a suonare adesso e poi l'hanno ammazzato quindi ci sono grandi artisti John Lennon ha fatto finire la guerra in Vietnam con Imagine ha messo nella testa dei giovani l'idea dell'amore e della pace e le proteste giovanili fecero fermare la guerra nel Vietnam quindi l'arte che nobilita sensibilizza e risveglia lo spirito zombie delle masse anche giovanili oggi giovani io non li riconosco più quando ero ragazzo io 18-19 anni ci menavamo nell'istituto per le idee politiche c'era un grande attivismo non andava bene ma oggi i giovani sono dei morti che camminano protestano quelli che protestano sono i miei coetanei 50-60 anni io ho 63 anni siamo in estinzione i giovani si sono scesi in piazza per la ragazzina lì Greta ma tutti firmati dove sono finiti i Fridays for Future dove sono? un branco di cretini che sono scesi in piazza per la gran cassa mediatica ma non c'era valore finito tutto subito le sardine non c'è più spessore ormai questa società demoniaca soprattutto con i device moderni cellulari tablet, tv eccetera eccetera i giovani li ha sterminati la droga certo tutto sì sì prego domanda cosa è importante tenere presente davanti all'affermazione ai potenti non conviene usare larmi nucleari poiché anche loro popolano il pianeta questa affermazione è un'affermazione stupida perché lo stupido che non ha mai soluzioni per la sua vita privata invece discetta di geopolitiche addirittura pretende di sapere come ragionano i potenti quindi l'imbecilli ha sempre delle idee ma sono idee imbecilli che non funzionano perché i missili atomici esistono quindi se il potente ha paura per la sua vita i missili atomici non li costruisce se li costruisce ha un piano e noi amici non conosciamo come ragiona Dio non conosciamo il suo potere non sappiamo che Dio ha potere sul Lucifero quindi questi potenti sono demoni incarnati che hanno una missione e la missione dei potenti del mondo è distruggere l'umanità perché se lo merita perché è codarda perché è ignava quindi l'imbecille che dice questa frase è uno sciocco che non capisce nulla è come tutti gli sciocchi pretende di sapere i potenti sono demoni di Lucifero incarnati e la loro missione essendo eterni noi ragioniamo sempre male perché ci dimentichiamo cavolo che siamo lo spirito ce lo ficchiamo in testa che siamo eterni è la notizia più bella che mi diede Eugenio Siracusa perché a me la morte st'idea di scomparire non mi piaceva molto quindi noi siamo eterni e siamo frustati e spinti da due poli che sono il positivo angelico che ci attira verso l'etica la morale il bene e il polo negativo che ci attira verso la dissoluzione perché Dio si è rotto le palle di questa umanità e ha detto mo ci do un taglio quelli che sono buoni me li tengo come seme grano per la nuova società gli altri peggio del diluvio universale leggetti il Vangelo c'è scritto così quei giorni saranno peggio del diluvio perché Dio è molto irato con noi e usa i diavoli per fustigarci per sferzarci e distruggerci se noi non mettiamo la testa a posto perché lui ci ha donato la creazione e noi gliela violentiamo si è stancato ha detto mo vi tolgo il corpo a tutti vi mando in camera di riflessione per qualche milione di anni quando mi dimostrate che l'avete capita vi libero di nuovo perché siamo eterni quindi cosa ci toglie lui l'arma del delitto cosa è l'arma del delitto il corpo umanoide e qual è il carcere che Dio ha previsto le bestie farà incarnare quell'umanità condannata in corpi di bestie per qualche milione di anni perché il cane il gatto il cincillà non hanno mano con dita pollice opponibile non hanno la statura eretta camminano con le mani creo faccio l'intelligenza l'encefalo dell'homo sapiens progetto le armi atomiche quindi la condanna di tanta gente sarà ricordarsi di essere stato umano ma vivere per molto tempo nel corpo di una bestia affinché possa riflettere sul male che hai fatto e che è meglio non ripeterlo più si chiama morte seconda sarà vietato mangiare carne perché sennò rischi di mangiare tuo cugino tua moglie tuo collega di lavoro di mangiarti Silvio poverino Silvio spero tocchi a me perché lo cucinerò bene sarà vietato mangiare carne perché in tantissime bestie ci saranno spiriti umani l'evoluzione che noi raggiungiamo Dio non ce la toglie mai ma siccome usiamo male il corpo lo usiamo come arma di distruzione di massa lui ce la toglie ci toglie il corpo ci lascia l'evoluzione ce la blocca perché senza un corpo umano non puoi evolverti quindi blocca la nostra evoluzione ci tiene al livello che eravamo in modo che ragioniamo sui danni che abbiamo fatto e ci libererà dopo molto tempo per questo nel Vangelo è scritto la condanna eterna dura milioni di anni ma non è eterna esattamente dura 600 milioni di anni o che volete da me forse per me anche il triplo perché c'è gente che proprio se lo merita ci sono persone che si alzano e dalla mattina programmano la distruzione dell'umanità questi sono i potenti la Nato ha programmato la distruzione dell'Europa hanno fatto le sanzioni alla Russia dove sono quadruplicate le bollette ai coglioni degli italiani c'è nato un grandissimo progetto di distruzione dell'Italia dell'Europa perché gli americani le guerre le fanno sempre a casa altrui ma in casa loro ma le forze della natura li faranno a pezzi prego ultima domanda eh lo so amici che faccio Alessio vai ciao buonasera mi fa molto piacere rivederti sono sei anni che non ci eravamo di persona e con l'occasione per invitarti al prossimo convegno di Tarquinia sarei molto felice se tu volessi partecipare ma io vorrei chiederti tante cose ma ce n'è una che in realtà mi è venuta in mente adesso mentre ti sentivo parlare come sai io non l'ho mai pensata al 100% come te ma ti stimo e comunque condividiamo molti punti di vista quello che hai detto su Bergoglia quindi sullo sconto tra fazioni massoniche all'interno anche della chiesa mi fa venire in mente una notizia che circola in questi giorni si dice che in realtà il 25 non ci si svolgeranno le elezioni perché prima succederà qualcosa cioè non saranno svolte perché ci sarà come un'azione che da tempo aspettiamo un intervento un arresto di alcuni capi politici importanti ecco una leggeria ecco io sento stabbagianata da circa vent'anni è una somma idiozia sperare nell'arresto di massa perché tu aspetti l'arresto di massa e nessuno li arresterà mai non ci saranno arresti di massa ci saranno arresti del popolo ci saranno manganellate sul popolo che rompe le palle perché i pubblici ufficiali che sono ignoranti come capre non conoscono il diritto ricevono un ordine se ne fottono della costituzione della legge e vanno a manganellare i loro pari perché i pubblici ufficiali finanzieri poliziotti carabinieri sono figli del popolo ma difendono il potente quindi sta storia degli arresti di massa che viene sempre dagli Stati Uniti d'America è sempre la solita fesseria per i boccaloni che sperano sempre in salvezza a buon mercato poi vorrei dire una cosa su quello che hai detto tu che non sei d'accordo con me ma io non sono nessuno io non ho opinioni io studio la scienza degli extraterrestri e parlo di quello che dicono loro perché laddove Alessio noi abbiamo opinioni cadiamo facilmente nell'inganno di gente più furba di noi quindi questa scienza prima di dire non sono d'accordo la dobbiamo conoscere e studiare perché io non ho bisogno di essere d'accordo con nessuno io ho bisogno di sapere se una cosa è vera e funziona perché se è vera e funziona la uso se non è vera e non funziona non la uso quindi se io mi prendo la grave responsabilità di parlare al popolo di certe cose io lo so che se sto ingannando mi carico di un karma spaventoso e gli extraterrestri mi abbandonano subito quindi io non parlo Karia non ha opinioni Karia ha abbandonato e credo le opinioni da tempo io parlo della scienza perché ho sperimentato tutto e funziona alla grande se no non sarei arrivato dove sono ci tenevo a specificare questo perché io ho smesso di essere belligerante perché lo studio e l'aiuto lo studio della scienza di questi esseri Alessio e la sperimentazione che mi hanno permesso di fare mi ha confermato che ciò che loro dicono è vero perché lo vivo quindi se uno ti dice una cosa tu la fai e funziona non è più un'opinione è un fatto reale quindi noi dobbiamo essere dobbiamo arrivare a questo a gestire la nostra vita non per le opinioni per risuona in me ma se sei un imbecille risuoneranno le cose da imbecilli non perché risuona in te allora è scienza rivelata quindi noi dobbiamo uscire da questi parametri belligeranti perché se io dico la mia opinione Franco dice la sua opinione già siamo belligeranti invece noi ci dobbiamo basare sui fatti sono felice? sono realizzato? faccio la vita che voglio? no e allora le tue opinioni sono sbagliate grazie amici grazie a tutti grazie domenica prossima sarò a Milano stesso argomento varierò un po' se volete seguite perché questo tema siamo entrati nell'ultima fase molto importante grazie grazie a tutti grazie a tutti